Il signore e la signora Dursley di Private Drive numero 4 erano orgogliosi di affermare di essere perfettamente normali. Erano le ultime persone al mondo da cui aspettarsi cose strane o misteriose, perché sciocchezze del genere proprio non le approvavano. Il signor Dursley era direttore di una ditta di nome Grannings, che fabbricava trapani. Era un uomo corporento, nervoso, quasi senza collo e con un grosso paio di baffi. La signora Dursley era magra, bionda e con un collo quasi due volte più lungo del normale, il che le tornava assai utile, dato che passava gran parte del tempo ad allungarlo oltre la sepa del giardino per spiare i vicini. I Dursley avevano un figlioletto di nome Dudley e secondo loro non esisteva al mondo un bambino più bello. Possedevano tutto quel che si poteva desiderare, ma avevano anche un segreto e il loro più grande timore era che qualcuno potesse scoprirlo. Non credevano di poter sopportare che qualcuno venisse a sapere dei Potter. La signora Potter era la sorella della signora Dursley, ma non si vedevano da anni. Anzi, la signora Dursley faceva addirittura finta di non avere sorelle, perché la signora Potter e quel buono annulla del marito non avrebbero potuto essere più diversi da loro di così. I Dursley rabbrivedivano il solo pensiero di quel che avrebbero detto i vicini se i Potter si fossero fatti vedere nei paraggi. Sapevano che i Potter avevano anche loro un figlio piccolo, ma non l'avevano mai visto e questa era un'altra buona ragione per tenere i Potter a distanza. Non volevano che Dudley avesse a che fare con un bambino del genere. Mio fratello tiene pronti la forchetta e il coltello. Ha fame, dice. Io non tanto, dico. Fa troppo caldo per mangiare cose calde. Sul petto nudo di Alan c'è un punto esclamativo. Gli hanno già aperto il torace tre volte, ma sembra una volta sola e lui è ancora vivo. Bum bum fa il suo cuore, a sinistra della cicatrice. Anzi no, bum bum fa la metà che funziona del suo cuore. Alle mie spalle il forno al microonde fa ping, ma mia madre non mette in tavola niente. Si siede e punta i gommiti ai lati del piatto. Vuole parlarci di una cosa, dice. Tu stai tranquillo, dice Alan, e gli tiene una mano davanti al viso, come se lui avesse già parlato troppo. Mentre Alan inizia a installare il calmo, fermo immobile e respira. Gli toglie di mano il coltello e la forchetta. Poi mamma punta di nuovo i gommiti sul tavolo e appoggia il mento sulle mani. Il suo sguardo passa da me a una macchia sul tavolo a forma di pesce. Respira a fondo e dice che mio padre e la sua cruz vogliono fare le cose in modo un po' diverso ora. Mamma diciamoci le cose senza preamboli, almeno per una volta, le dico. E mamma senza preamboli mi dice che papà e la sua cruz mi trovano intrattabile. Questa non è una novità, ma la proposta che segue, quella sì, è nuova. Buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti e benvenute a questo tavolo di lavoro che si intisola appunto Far Nascere un Teen Love e abbiamo per questo motivo pensato che il modo migliore per iniziare il pomeriggio fosse quello di dare la parola ai teen che abbiamo insomma invitato. Nello specifico ringrazio intanto Federica e Vittoria che sono in virgolettato le mie teen ma stasera insomma ci sarà modo di ascoltare anche altri ragazzi e ragazze. Appunto questo tavolo è dedicato a un pubblico di adulti nel senso che è un po' come parleremo di come aiutarli a fare questo quello che abbiamo visto adesso e quello che vedremo e per questa ragione diciamo mi sembrava interessante partire un po' da dall'ascoltare le loro storie no perché noi sappiamo che le storie stanno al centro. Quindi partiremo così fino già vi dico così vi do questo spoiler fino alle 17 e 30 saremo così in ottima compagnia dei teen dopo di che li abbiamo lasciati tutti liberi quindi io parlerò veramente poco in questo momento e poi dalle 17 e 30 invece riprenderò un po' più in mano io. Saremo insieme fino alle 19 tutti quanti con l'idea insomma di uscire da qui con tante idee da mettere in pratica da subito. A proposito di non dire altro chiederei allora a questo appunto a Federica e a Vittoria così di raccontare brevemente loro ho detto mie teen nel senso che stiamo iniziando il circolo love cretesenese di cui io sono coordinatrice è nato praticamente a gennaio del 2020 dopo di che sappiamo tutti cosa è successo a marzo e il circolo teen love sta nascendo adesso e quindi abbiamo avuto modo di fare nello specifico due esperienze che adesso però vi racconteranno Federica e Vittoria che se ne sono divise fra di loro quindi lascio insomma la parola a loro e se oltre a raccontarci queste due piccole esperienze ci volete anche dire così in che modo vi è venuta voglia di leggere per gli altri noi vi ascoltiamo e soprattutto scusatemi questo lo voglio dire ancora complimenti perché io avevo il cuore a mille mi posso solo immaginare cosa vuol dire aprire così senza quindi grazie per aver per averci fatto questo questo regalo a voi non so se vuole andare prima fede o vitto è uguale vai vado io allora abbiamo fatto ad halloween dei laboratori che comprendevano sia delle letture per i bambini più piccoli ma anche la lettura al buio per i ragazzi più grandi per che fosse magari un po più paurosa per far divertire un po tutti sono diventata una team love per tutto perché ovviamente mi piace leggere ma ovviamente ma grazie anche a Sara che dopo che ho ascoltato molte molte sue letture mi ha chiesto di diventare una team love e sono molto felice di esserlo grazie fede allora invece l'altro lavoro che c'è l'altro lavoro l'altro incontro che abbiamo fatto è stato il primo che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto in grancia che è il museo del nostro paese eravamo siamo andati in una sala appunto del museo e abbiamo aspettato i bambini poi abbiamo gli abbiamo letto dei libri sono diventata una team love sia perché mi piace leggere soprattutto agli altri ma anche grazie a Sara che diciamo mi ha fatto questa proposta e ho accettato aggiungo io anche se posso che eh sono anche molto coraggiose nel senso che io sono stata ho fatto la proposta loro hanno accettato e non si tirano eh indietro no quindi ecco ecco diciamo che anche questo secondo me è un ingrediente che serve questo è un appunto che prendo per me per quando andrò sulle slide dopo grazie grazie Federica grazie Vittorio ovviamente quando volete poi intervenire potete farlo a questo punto io chiamo invece ehm il team love di Pieve Agnievole che è rappresentato dal coordinatore David Bargiacchi che condividerà con me anche una parte della formazione perché lui è dentro la scuola e quindi quando abbiamo pensato a questo tavolo ci siamo detti cioè io l'ho chiamato ho detto David aiutami per la parte scolastica perché eh ce n'è insomma ho bisogno di un di una voce dall'interno e con lui ci sono Cristian e Matilde che hanno preparato per noi una lettura quindi mentre ehm Vittoria e Federica ci hanno letto l'incipit eh invece ehm Cristian e Matilde leggeranno una parte diversa di di altri due libri così nel frattempo facciamo anche un po' di di suggerimenti bibliografici che non fanno mai scomodo per chi a lavora con la lettura e poi ci racconteranno la loro esperienza quindi lascio la parola non so se David vuoi dire te due parole iniziali o se vuoi far partire loro insomma ma solo solo un saluto e un ringraziamento a tutti e a tutte e tutti e appunto diamo la parola facciamo parlare loro oggi che sono che ci onorano di questa presenza e insomma eh è una bella occasione quella di trovarsi insieme teen e grandi che cerchiamo di di portare avanti questa queste nostre azioni di lettura e vedo anzi che che c'è una c'è una diffusione una proliferazione nuove nuove idee infermente quindi quando bolle qualcosa in pentola ci piace sempre e quindi direi credo che vada Matilde ci sei Matilde sì perfetto ok allora Matilde ci dici due tre parole di che cosa ci leggerai e poi parti subito così che stiamo nei tempi della scaletta certo allora io leggerò il romanzo Sufì sui tetti di Parigi che parla appunto di una neonata che per il giorno del suo primo compleanno insomma quando compterà un anno viene ritrovata sulle rive di un mare da un uomo adulto molto particolare che si chiama Charlie e che la seguirà appunto per il resto della sua vita si presume che sulla nave prima del naufragio ci fosse anche la madre di Sofì però tutti la convinceranno che appunto sua madre non c'era ma lei pensa che sia ancora viva quindi nel corso appunto di questo romanzo continuerà a cercare sua madre per un istante esitò ondeggiando nell'aria poi iniziò a camminare passo dopo passo finché non arrivò alla metà esatta della fune teneva le braccia tese verso l'esterno come ali pensò Sofì la parte superiore del suo corpo si muoveva a ritmo con la brezza sembrava che fosse sospeso nel nulla il vento gli agitava i vestiti e gli frustava i capelli a Sofì farve una cosa straordinaria e inaspettata le tolse il respiro molto lentamente Matteo si voltò mentre Sofì sentiva il terrore che le attanagliava la vola nonostante lo vedesse saldo e tranquillo tornò verso di lei vieni disse porgiandole una mano ciò che stupì Sofì è che non ebbe nemmeno bisogno di pensarci forse perché era così bello o forse perché tutti a volte sentiamo il bisogno di essere coraggiosi in modo stupido e sconsiderato sì disse Sofì eccomi raggiunse il bordo del tetto figli nulla di difficile arricciò le dita dei piedi sul parapetto e guarda in basso già era più difficile aveva le mani bollenti coraggio si disse piano disse Matteo comincia piano riesce a mettere un piede sulla fune sotto il piede nudo la corda di lei sembrò affilata ed elastica oh Matteo il cuore era come avere un vortice d'aria nel petto dammi le mani mi terrò in equilibrio io per tutti e due oui oui disse Sofì sì l'altro piede anche il piede destro di Sofì abbandonò il tetto e lei si ritrovò a camminare nell'aria oh sospirò tu sei matto noi siamo matti oddio bene disse Matteo lei vacillò e lui la tenne salda essere matti è un'ottima cosa non guardare giù ma come faccio a sapere dove mettere i piedi se non guardo la sua voce risuonò più acuta del solido devi tenerti a me afferrami le spalle andrò indietro e all'equilibrio ci penso io d'accordo tu preoccupati solo di non guardare in basso senti la fune sotto i piedi sì rispose Sofì affondando le unghie nella pelle di Matteo sì ora disse lui piede sinistro poi destro usai alluci sinistra ferma non guardare in basso occhi puntati verso l'alto in cima alla mia testa senti l'equilibrio la corda rasposa le sollicava i piedi penso di sì sì forse bien disse lui sembrava spazientosamente piccolo e leggero Sofì pensò che dovesse avere le ossa del collo cave come quelle degli uccelli continuò a respirare e cammina a metà strada Matteo rallentò e si fermò perché ti fermi? chiese lei cercando di eliminare il tono stridulo che le dava la paura forse è meglio se evitiamo di fare soste così puoi guardare guarda Sofì non verso il basso davanti a te c'è tutta Parigi Sofì guardò e le mancò il fiato sotto i suoi piedi Parigi si estendeva verso il fiume era più buia di Londra era una città che brillava di lampi e bagliori fugaci splendida come le uova averge pensò Sofì roba da tappito volante hai visto la più bella città del mondo disse Matteo da nessuna parte ti senti un re come qua su ma era ancora meglio di essere un re i re pensò Sofì si consumavano le dita furia di stringere mani piuttosto ti sentivi un guerriero un folletto o un uccello lontano lungo il fiume si vedeva l'hotelbost e il suo lucernario chissà se l'ho lasciata accesa la candela in camera mia si domandò Sofì forse da qui riesco a vederla Matteo non le vadò il suo viso era più pallido del solito e i suoi occhi più luminosi sembrava l'ascolto della fune che ne dici di dare da mangiare agli uccelli disse si poi una folata di vento le sollevò la camicia da notte e soffì cambia idea o meglio no no davvero preferirei proseguire disse per favore bene quindi questa era appunto la lettura dove parlava di Sofì che camminava su un cavo diciamo con sotto di lei proprio il nulla insieme a un suo amico grazie grazie Matilde rimandiamo con con le letture entrambe giusto? come vuoi se Matilde voglia di raccontarci anche brevemente va benissimo già che ormai ha preso lei la parola tra l'altro Matilde grazie perché io ho qui un libro che poi consiglierò dopo agli adulti scritto dalla stessa autrice di Sofì sui tetti di Parigi quindi perfetto ok perfetto quindi già che ci sono racconto un po' la mia esperienza allora io non ho ancora personalmente fatto nessun incontro per adesso però l'anno scorso appunto ho fatto un evento dove raggruppava gli anziani dell'Auser e dove appunto ho letto a loro nella nostra scuola devo dire che è stato davvero bellissimo perché è soprattutto un'esperienza gratificante sia per te che la fai sia per gli altri appunto che ti ascoltano ed è veramente molto bello vedere le persone che nel primo incontro ritornavano anche al secondo e è stato veramente bello per quanto riguarda invece come ci organizziamo noi appunto dagli alunni di terza quelli di seconda quelli di prima facciamo delle riunioni pomeridiane appunto dopo la scuola ci fermiamo lì pranziamo una mezz'oretta e poi facciamo un'oretta dove i ragazzi che magari hanno un evento la settimana successiva ci ragionano insomma in un gruppo e magari provano le loro letture mentre gli altri ragazzi o provano le letture successive per altrimenti oppure li aiutano dandogli dei consigli soprattutto quelli che magari ci sono già stati per fargli capire come catturare bene il pubblico io appunto come ho già detto quest'anno non sono ancora stata in nessun evento però il 20 dicembre appunto sarò all'open day della mia scuola dove leggeremo i ragazzi e a gennaio andrò anche alla scuola Vivaldi e non vedo l'ora di fare questi eventi perché sono tutti meravigliosi e adesso lascio la parola a Cristian che lui appunto è già stato ad un evento grazie mille Matilde tra l'altro guarda ci hai dato anche un sacco di spunti molto interessanti quindi ci hai detto come vi trovate quando vi trovate cosa fate ora io sarei curiosissima ma lo chiederò poi a David che letture avete preparato per il 20 e che letture avete fatto per invece per quando sono venuti insomma venute le persone dell'Hauser ma poi non faccio però avevo promesso che non facevo domande quello del 20 si prepara domani quindi siamo sempre a posto allora domani voi mi farete sapere bene grazie grazie Matilde grazie davvero quindi Cristian sentite? benissimo Cristian ok io invece leggerò una storiella di un libro che appunto è formato da diverse storie che parlano appunto ogni storia di a causa della mafia di bambini appunto uccisi dalla mafia e il ragazzo che la storiella del ragazzo che vi parlerò oggi è Nicholas Green e il libro si chiama Assenti senza senza giustificare e appunto vi leggerò la storiella queste storielle sono raccontate come se fossero dei temi e appunto raccontano lo svolgimento il tema racconta le tue vacanze estive svolgimento senza ombra di dubbio queste sono state le più belle vacanze estive della mia vita io mi chiamo Nicholas e abito in California a San Francisco quando mio padre mi ha detto che saremmo venuti in Italia non potevo crederci sono perfino scoppiato in lacrime cavolo avremmo visitato Pompei Pompei signore e signori Pompei l'eruzione del Vesuvio gli antichi romani case di 2000 anni fa avremmo visto cose che che mai negli Stati Uniti possiamo no scusa cose che negli Stati Uniti possiamo solo trovare sui libri o guardare in tv forse è difficile da capire per chi vive in Italia ma io sapevo bene che quel viaggio sarebbe stata un'occasione preziosissima per conoscere un mondo che noi americani possiamo toccare con mano solo attraversando tutto l'oceano atlantico solo dopo ore e ore di volo anche per questo prima della partenza ero elettrico e dicevo sempre ciao ciao pizza buongiorno non ho abbastanza spazio per scrivere su questo foglio tutto ciò che è di bello ho visto nel vostro paese mancano i righe dopo Napoli mia madre Margaret e mio padre Reginald hanno deciso di portare mia e mia sorella Eleanor in Sicilia la terra dei ciclopi mentre partivamo mi sono detto sei proprio un bambino fortunato a Nicolas se a sette anni ha l'opportunità di vedere tutte queste bellezze mio padre ha affittato uno dei bianchi i 10 e così ci siamo immessi nell'autostrada Salerno Reggio Calabria lo so che gli italiani dicono che è un'autostrada brutta piena zeppa di cantieri ma a me è piaciuto perdermi in quei panorami nelle colline nelle vallate e nei paesini del sud Italia quello che non si vede in tv dopo ore e ore mi sono addormentato felice col sorriso ho chiuso gli occhi sognando l'Etna e i ciclopi Scilla e Cariddi lo stretto di Messina il traghetto a Tormia sapete cosa fa un bambino quando si addormenta felice? brilla mentre brillavo non mi sono accorto che quattro rapinatori hanno bussato con una pistola al finestrino di mio padre mio padre è andato nel panico ed è scappato ma questi non si sono fermati e l'hanno inseguito diceva che doveva fermarsi l'avevano scambiato per un gioielliere della zona ma mio padre aveva paura per me per noi per lui aveva paura di trasformare la più bella vacanza della nostra vita in un incubo per chilometri è scappato col piede a tavoletta poi quasi fosse un miraggio ha visto un'auto della polizia è fatta avrà pensato ora mi fermo ed è finita e così è stato i criminali sono scappati e mio padre ha trovato finalmente rifugio tra una sirena e un lapteggiante lui e mia madre si sono girati verso me e mia sorella pensavamo che stessimo dormendo invece io perdevo sangue dalla testa non si erano accorti che uno di quei criminali aveva esploso un colpo e nonostante la velocità nonostante pensieri belli quel colpo si era conficcato nel mio cervello non ho pianto e non avevo nemmeno una faccia spaventata perché i proiettili non sono riusciti a far paura ai ciclopi mi hanno trasportato in un ospedale all'altro e la situazione peggiorava sempre di più fino all'unimento in cui un dottore ha avuto il coraggio di dire ai miei genitori che non c'era niente da fare che la pallottola era esplosa nella mia testa e tantissime schegge avevano fatto danni ai reparali il destino ha voluto che io facessi compagnia ai vulcani e ai ciclopi e che mi fermassi per sempre a Messina a pochi passi dai nostri dei mustri marini e dalle correnti dello stretto ciao Italia goodbye Nicola Sgrinno muore a Messina l'1 ottobre del 1994 colpito alla testa nei pressi dell'uscita di Serre a pochi chilometri dal vivo Valencia mentre è in vacanza con la sua famiglia quando è dichiarato morto i suoi genitori autorizzano il prelievo e la donazione dei suoi organi una pratica molto diffusa nella penisola italiana una pratica poco diffusa nella penisola italiana presso il suo sacrificio sette persone beneficeranno di una vita migliore tre adolescenti e due adulti mentre altre due persone riacquisteranno la vista in Italia la morte di Nicola fa molto scalpore e le immagini dei tre pianti ritornati alla vita vengono trasmesse in tutta la nazione l'effetto Nicolas fa sì che in Italia si passi da 6,2 donazioni per milioni di abitanti a 23,1 in soli due decenni nessun paese ha mai registrato una simile crescita i genitori di Nicolas incontrano i beneficiari degli organi del bambino dopo 25 anni sono ancora in contatto con loro Reginald Green scrive due libri dedicati al figlio nel 1998 venne realizzato un film che raggiunge 100 milioni di telespettatori i coniugi Green ricevuti dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ricevono una medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione cittadini statunitensi in Italia per una vacanza con generoso slancio altissimo senso di solidarietà disponevano gli organi del proprio figliolo vittima di un barbara acquato all'autostale Salerno Reggio Calabria venissero donati venissero donati a giovani italiani in attesa di tre pianto nobili esempio di umanità di amore e di grande civiltà gli esecutori materiali dell'omicidio di Nicholas due ragazzi sotto i 30 anni sono condannati all'ergastolo e una pena di 20 anni nella città natale di Nicholas Bodega Bay i coniugi Green realizzano la Children's Bell Tower un monumento dedicato al loro bambino con più di 140 campane molte delle quali donate da famiglie italiane in Italia a Nicholas sono dedicate 23 parchi giochi il reparto di reanimazione di Messina 24 scuole e 22 tra piazze e via grazie Cristian grazie mille ti dico che mentre leggevi ci sono stati anche commenti che bella lettura molto toccante molto bello e io ora faccio una mini confessione così che ce la teniamo per dopo per pensarci sapete che ragazzi quando leggete voi per me è molto più facile stare attenta io sono una distrattona di quelle terribili cioè che vola una farfalla e mi parte subito e quindi devo dire che per me ascoltare è tanto complicato nel senso mi devo tanto sforzare tanto impegnare avete letto voi non così niente così ci faccio caso a questa cosa e me la segno quando leggono i ragazzi e le ragazze non ho problemi a mantenere l'attenzione quindi bravi davvero grazie Cristian raccontaci però scusami ora ho fatto questa confessione ma ti diamo spazio come ha fatto Matilde un po' per raccontarci della tua avventura come lettore allora quindi di quest'anno diciamo che Matilde ha spiegato tutto e molto bene quindi non ci ripasso sopra però posso dire che anche se lei purtroppo non è ancora riuscita a partecipare a un evento io sono partecipato la settimana scorsa a un evento alle nostre alle scuole elementari di Pievanievole Leti Amici a una seconda e praticamente sono andato a leggere questo libro molto divertente di un topolino si chiama Federico e mi è piaciuto tantissimo perché c'è i bambini fino cioè il prof mi ha fatto il prof Bargiac appunto mi ha fatto innamorare della lettura perché all'elementario non avevo idea di cosa volesse dire leggere un libro poi soprattutto in seconda invece questi bambini mentre leggevo cioè ti chiedevano una nuova lettura una nuova lettura ti ascoltavano ti chiedevano ti facevano delle domande mentre leggevi è stato bellissimo poi quando c'erano la fine delle letture c'erano dei ragazzi che saltavano sulla sedia chi saltava per l'aula erano veramente felicissimi e attentissimi e quindi spero non riesco a spiegare la sensazione quasi come non lo so un babbo non lo so però comunque spero che tutti possano soprattutto ragazzi possono provare una sensazione simile e spero che purtroppo per il covid anni scorsi non si era fatta ma spero che si farà molte volte guarda Cristian questo tuo augurio secondo me è condiviso anche da noi più grandi nel senso che comunque abbiamo voglia anche noi di così tornare un po' a stare a stare insieme e molto bella la sua testa testimonianza quando hai detto è difficile spiegarlo mi ritrovo molto nelle sue parole perché a volte anche per me è difficile spiegare le emozioni infatti io uso sempre libri per parlare mi aiutano però le parole così che hai detto erano molto attenti erano molto felici quindi credo che ti abbiano dato subito una risposta e forse eri anche soddisfatto in un certo senso e sorpreso anche mi sembrava di capire perché dicevi io all'elementari non così non conoscevo la lettura giusto? sì sì un po' storielle della nonna però comunque non conoscevo poi ero con altre mie amiche nel gruppo e erano anche loro felicissime con il sorriso perché vedevano che finivi una lettura chiedevano chi è il prossimo chi è il prossimo quindi veramente un'emozione unica fantastico bellissima questa storia del topolino poi mi direte qual è che io sono sempre avida di sitoli sono curiosa il famosissimo Federico di Leo Leonni e Fiaba per per i piccoli bene quindi albi illustrati anche voi sì 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 benissimo sono andati sull'albo sì sì david siamo in anticipo sulla nostra scaletta quindi se vuoi dire due cose come coordinatore del circolo ovviamente christian ci avrà tutti dieci no sto scherzando no ma allora sono stati cioè tutti tutti i nostri tutte le lettrici e christian come lettore sono state bravissime bravissimo quindi grazie veramente e che cosa diciamo poi tanto dopo faremo qualche qualche affondo un pochino più anche nelle tecniche però insomma quest'anno si riparte un po' da questo augurio no che che ci stiamo facendo quello di poter riprendere le letture in presenza sono stati poi in fondo le nostre storie come circoli team love mi sembra di capire che si somigliano tutte un po' anche per indicazione cronologica no cioè quindi siamo nati un po' tutti negli anni più difficili e in questi anni insomma abbiamo dovuto fare di necessità virtù quindi abbiamo attivato all'inizio delle le audioletture le registrazioni e abbiamo siamo partiti dalla distanza e piano piano ci stiamo avvicinando alle attività in presenza e e questa attività in presenza appunto hanno un ventaglio e poi ne parliamo più diffusamente hanno un ventaglio di possibilità che è davvero davvero enorme no perché si va appunto dalle letture fatte per i bambini della scuola dell'infanzia per la primaria e si va agli eventi degli open day agli spettacoli della scuola ma anche poi ci si apre i territori come si fa appunto in occasione del della degli incontri che facciamo per gli anziani poi ancora non è stato detto ma poi ci torniamo su questo ci sono delle possibilità interessantissime di di gemellaggi no per esempio con con la scuola Nannini di Parrata poi anche qui insomma abbiamo Alessandro abbiamo diverse persone sono i prossimi scaletta infatti ho lanciato un po' ho fatto un po' il cross e poi c'è c'è Silvia da Montecatini insomma ci sono tante persone che con le quali si possono intessere delle relazioni perché questo poi dobbiamo ricordarci che è una è una di quelle attività che funziona proprio nella presenza cioè nello stare insieme attraverso le letture e questa cosa dell'entusiasmo dei bambini secondo me è moltiplicata un numero infinito di volte quando siamo noi a leggere o quando sono i ragazzi a leggere quindi c'è c'è proprio questo effetto moltiplicativo della soddisfazione della dello stare insieme del fare del leggere per gli altri sì sicuramente quando sono ragazzi scusami no dicevo sicuramente quando sono ragazzi ragazze a leggere li vedono più vicini anagraficamente e di conseguenza secondo me è anche un po' un dire ah però forse fra qualche anno io potrei essere lì quindi è sicuramente un'emozione maggiore allora io inizio a condividere proprio due slide vi chiederei adesso faccio una prova se per voi non è un problema le vorrei condividere così in maniera che ancora vi riesco a vedere tanto non è che c'è scritto granché sono più che altro immagini perché se le metto a schermo intero non vedo più i vostri volti quindi vi chiederei poi se c'è qualcuno insomma che ha bisogno me lo scrive in chat e lo faccio a schermo intero allora prima slide di così dove siamo stasera ce lo siamo detti siamo al a questo laboratorio e tavolo di lavoro nel contesto del progetto nazionale io leggo per gli altri dalla Puglia al Piemonte l'onda lunga dei lettori volontari ad altavoce quindi è questo progetto nazionale realizzato con il finanziamento del CEPEL che coinvolge quattro regioni di cui abbiamo tutte le tutor stasera perché le ho viste piano piano che entravano poi dopo facciamo magari fare un saluto anche a loro ma ci senevamo in questa prima ora a far parlare tutti i team quindi è per questo che stiamo un po' andando veloci e quindi stasera il tema è appunto far nascere un circolo team love quindi in che modo noi adulti ci possiamo adoperare per dare voce alle letture dei ragazzi e delle ragazze mi piaceva iniziare con una frase che ha usato Martina la scorsa settimana nel tavolo di lavoro sempre dedicato al diventare volontari love quindi non erano i team ma erano i volontari quindi alcune slide poi stasera le ho un po' riprese quindi chiedo scusa per chi c'è due volte ma tanto fa anche bene ridirselo e quindi mi piaceva iniziare appunto da questa frase leggere ad altavoce e ascoltarci attraverso le pagine dei libri messi in circolo e vi ho messo le copertine dei quattro libri che hanno letto i nostri team quindi quattro storie diverse quattro storie che a ciascuno di loro sicuramente raccontano qualcosa ma quattro storie che anche a ciascuno di noi raccontano cose diverse quindi c'è chi si sente come Sofì magari sul filo ma quel filo insomma può essere tante cose e quindi un po' l'idea della condivisione attraverso la lettura come diceva David però stasera non sono finiti gli ospiti team perché abbiamo anche il team love di Quarrata rappresentato stasera dalla coordinatrice Alessandra Rossi e poi da Matteo Teresa e Ludovica io per loro ho preparato due slide perché Alessandra mi aveva mandato un sacco di foso in realtà poi vabbè le foso sicuramente ce le abbiamo anche io e David però era per fare diciamo tre presentazioni un po' un po' e inoltre i ragazzi del team lab di Quarrata ci hanno preparato anche dei piccolissimi consigli bibliografici quindi faccio sono nello specifico sono due slide ho fatto un mini così puzzle un mini collage di foto e lasso la parola intanto Alessandra Rossi se appunto vuoi dirci qualcosa o se vuoi far partire subito i ragazzi per noi come vuoi no vabbè dico qualcosa io buonasera a tutti e poi faccio parlare ai ragazzi allora buonasera io mi chiamo Alessandra Alessandra Rossi e sono un'insegnante di lettere alla scuola secondaria di primo grado Mario Nannini di di Quarrata zona Vignole dunque volevo dire che è presente anche la mia collega Tina Tina Soviero che ha portato avanti il progetto insieme a me abbiamo sempre lavorato insieme quindi c'è anche lei è nel gruppo di lavoro oggi poveriggio allora niente noi ci siamo costituiti come circolo Team Love ad aprile dello scorso anno dopo che diciamo avevo seguito un corso online organizzato dal team di leggere forte ed ero rimasta molto colpita dai ragazzi del professor Vargiacchi di David ho riconosciuto Christian che è sempre formidabile mi colpì tanto anche l'altra volta e questi bambini raccontavano della loro esperienza nel circolo Team Love di Tieve Annevole e quindi io e Tina c'era anche Tina quel giorno lì rimasti affascinate da questo lavoro meraviglioso si è decise di provare a interessarsi per formare il diciamo anche noi il nostro circolo Team Love ce l'abbiamo fatta abbiamo preso contatti con Chiara Galimberti nella quale poi mi mise in contatto con David e veramente ci ha dato un grandissimo aiuto senza David non saremmo stati in grado di far niente e il nostro circolo è diventato operativo appunto l'anno scorso i primi giorni di aprile e praticamente noi ci siamo organizzati così allora ci ritroviamo una volta alla settimana per fare il circolo di lettura poi ragazzi vi spiegheranno meglio anche come e poi abbiamo organizzato tutta una serie di attività all'interno del nostro istituto comprensivo l'anno scorso siamo andati a fare letture nei plessi dell'infanzia abbinando alla lettura di albi dei laboratori e quest'anno l'abbiamo fatta la primaria infatti qui vedete un apposo di un laboratorio che ho seguito io con un gruppetto dei nostri di Inviti in Love abbiamo letto l'albo di Beatrice Alemagna e il meraviglioso Ciccia Felliccia e poi abbiamo realizzato i Ciccia Felliccia abbiamo fatto il laboratorio manuale insomma creativo e lo vedete lì il Ciccia Felliccia che insomma ogni pomerino ne ha costruito anche più di uno e poi niente abbiamo fatto anche nella slide successiva che vedo lì Sara se la vuoi mandare ecco qui invece ci siamo fatti la magliettina rossa insomma ci stiamo organizzando piano piano qui abbiamo fatto delle letture natalizie per i nostri i genitori dei ragazzi del Circo di Love perché abbiamo detto andiamo a leggere doniamo letture ad altri però magari ci sembrava bello anche che i ragazzi donassero delle letture ai loro genitori e queste stanno fatte il primo di dicembre di niente di ora del 2022 non so se vogliono dire qualcosa ai ragazzi che se vuol partire Ludovica che poi deve lasciarci perché ha degli impegni personali non so va bene vai Ludo allora salve a tutti io sono Ludovica Cappellini e frequento già da due anni il circolo di lettura Team Love ho scelto di entrarne a Falpart perché amo molto leggere e mi è sembrato una buona occasione per ampliare i miei orizzonti letterari conoscendo nuovi libri che poi ho comprato perché i miei compagni durante questi incontri che facciamo settimanalmente a scuola hanno presentato e noi durante l'anno facciamo diversi progetti come ha detto già la professoressa Rossi e io oggi vi racconterò di un progetto che è stato fatto durante l'estate dove siamo andate a leggere degli albi a dei bambini in un parco e io in questa occasione mi sono molto divertita e soprattutto nel vedere i bambini coinvolti divertiti e felici che secondo me è l'aspetto più importante e oggi il libro che vi presento si chiama Blackbird e parla della storia di due ragazze una ebrea l'altra proveniente da una famiglia piena di pregiudizi che diciamo sono costrette a scappare insieme per colpa dell'esplosione della centrale di Chernobyl e ho scelto di portare insomma questo libro perché affronta temi quotidiani come il razzismo ma anche perché è pieno di colpi di scena è molto emozionante e tiene costantemente in apprezzione grazie Ludo va bene e può parlare Matteo perfetto io poi metterò i titoli ecco si sa insomma si brava ora poi magari mi scrivo anch'io sì sì li metterò li metterò anche io soltanto che ora non vi voglio togliere a parte posso togliervi un attimo la condivisione vai così metto i titoli sì grazie mi vedete sì sentire ti sentiamo Matteo ecco ancora ti vediamo anche vai perfetto no allora anch'io ho preso parte insomma al circolo nata a scuola praticamente subito cioè appena c'è stato detto dell'apertura e appunto vabbè come un po' cosa facciamo durante la settimana l'ha un po' detto un po' la Ludovia e la professoressa Rossi quindi volevo parlare di un laboratorio che abbiamo svolto 20-25 giorni fa circa alla scuola primaria della della catena in una classe terza abbiamo letto delle storie tratte da un libro dal titolo Il mio mondo a testa in giù ovviamente un libro per bambini e da lì abbiamo fatto il nostro laboratorio abbiamo fatto scrivere ai ai bimbili della classe il loro mondo a testa in giù quindi quando la loro vita diventa un mondo a testa in giù e poi dopo abbiamo anche fatto una parte un po' più interattiva perché abbiamo messo tutti i biglietti a caso in una scatola e rileggendogli più volte insomma siamo arrivati ad estrarre un vincitore votato ovviamente dai compagni della terza della classe quindi sono secondo me queste le esperienze un po' più belle che facciamo perché appunto ci permettono anche di divertire noi di far divertire gli altri e di promuovere anche un po' la lettura che insomma soprattutto nell'età fino alla nostra cioè non è tanto non è poi così tanto considerata e quindi è stata anche abbastanza grande dopo la soddisfazione di di vedere io e gli altri miei compagni questi bimbi felici tutte le volte che si leggeva una storia che sempre emozionati che ne chiedevano un'altra che ridevano che scherzavano e poi ovviamente la parte del gioco dove abbiamo tirato su i nomi e quindi tutti a dire sono io e questa è bella questa così risate quindi insomma è stato un momento molto carino molto significativo e come consiglio letterario oggi ho portato questa notte non torno di Antonella che ho letto quest'estate per il progetto del premio strega ragazzi e ragazze 2022 e l'ho trovato molto appassionante e soprattutto mi ha fatto molto riflettere perché paragona la vita di due ragazzi uno come come noi che affronta un problema grave per la nostra società per il nostro mondo comparata appunto alla vita di un altro ragazzo Aziz che scappa dalla guerra che quindi lui scappa per sopravvivere mentre invece Mattia l'altro protagonista scappa un po' da se stesso un po' dai propri problemi e si incontrano nel momento proprio dell'incontro dove ognuno racconta l'altro e viene un po' i feeling si conoscono insomma poi dopo si conclude un po' tutto il circolo e mi ha fatto davvero molto riflettere molto pensare questo questo libro trovato davvero bello grazie Matteo sai che io questo non l'ho letto e quindi tac tac me lo vado subito a prendere in biblioteca sperando che ci sia forse sì a me è piaciuto da come me l'hai raccontato è un tipo di storia che mi potrebbe piacere un sacco anche a me quindi grazie mille per questo e grazie Alessandra poi secondo me dopo ci dovrai raccontare il progetto premio strega ma ce lo teniamo per dopo tanto se Alessandra rimani fino alla fine giusto? sì sì rimango fino alla fine perfetto allora dopo ce lo ce lo racconti grazie Matteo e ora può parlare Teresa mi sentite? sì Teresa ti sentiamo non ti vediamo non so l'hai acceso il video? non lo so se mi hai hanno mandato l'autoreazione non ti preoccupare parla vai uguale se non ti vediamo vai tranquilla io ho deciso di partecipare a Team Love perché ho sempre cercato qualunque cosa che riguardasse i libri e leggere insieme condividere i nostri pensieri riguardo alla lettura e una cosa che mi piace tantissimo di quando ci riuniamo è il fatto che noi non siamo anche se portiamo un libro non siamo obbligati a leggere o a parlare è una cosa spontanea se uno se la sente e che siamo riuniti in circolo quindi è più una cosa di gruppo ci guardiamo negli occhi e invece di essere normalmente come siamo sempre sei ore su sei in una classe dove ci diamo tutti le spalle e questa è una cosa molto bella che mi fa riflettere anche su come la lettura unisce tutti e il laboratorio che mi è piaciuto di più in questi due anni da quando frequento il circolo è stato l'ultimo che abbiamo fatto alle elementari con la terza B e dove abbiamo letto l'albo illustrato la grande fabbrica delle parole con la mia professoressa di lettere e poi abbiamo fatto un'attività con i bambini gli abbiamo fatto creare una ricetta con delle parole costose delle parole da quattro soldi buffe e regalate e insomma sono venute fuori delle sorelle molto buffe e insomma ridevano poi mi sono messa lì a parlare con i bambini molto simpatici anche vivaci hanno voglia di chiacchierare e niente è stato molto bello e il consiglio che continuo in perterrita a proporre tutti gli anni ogni mese agli incontri 10 piccoli indiani di Agatha Christie che mi ha appassionato molto perché è un libro che lascia in sospeso fino all'ultima parola dell'ultima riga dell'ultima pagina e anche perché Agatha Christie è una scrittrice bravissima e mi mi fa appunto appassionare alla lettura ancora di più grazie grazie è stata bravissima è stata molto bravi tutti e tre insomma sono più sciolti loro di me a parlare ma bravi veramente bene tra l'altro ti volevo dire guarda due cose allora anch'io ho fatto tutte le medie perché ai tempi insomma in cui io faccio le medie non c'erano tutti questi libri per ragazzi e ho fatto tutte le medie leggendomi Agatha Christie e Daniel Pennac e invece rispetto alla grande fabbrica delle parole Teresa è una lettura che sicuramente condividi anche con Federica e Vittoria perché è un albo che io ho letto in classe a loro quando erano insomma più piccole quando facevano le scuole elementari quindi abbiamo anche un libro insomma che ci unisce così per dirvi per lanciarvi allora io sono felicissima perché avevamo promesso ai teen di terminare alle 17.30 sono le 17.28 quindi ecco io direi magari intanto vabbè vi ringrazio perché così anche con poco preavviso perché è stata un po' un'idea dell'ultimo momento avete reso possibile questo la cosa che vi voglio dire è che e ve lo possono ma poi ve lo potranno dire i vostri professori quando voi chiuderete noi partiremo con una parte un po' più teorica in cui diremo esattamente le stesse cose che avete detto voi e quindi in realtà l'essenziale è già stato detto io prima mentre parlavate ho preso no delle parole chiave ho messo il divertimento le risate Teresa ha detto la lettura unisce tutti poi io mi sono insegnato una parola che non è stata detta ma è stato detto il senso il setting quindi a scuola ci vediamo tutti di spalle e quando poi invece ci incontriamo per leggere ci vediamo tutti negli occhi ci guardiamo tutti negli occhi e quello è stata una cosa che ecco me la sono segnata perché non l'avevo messa sulle slide e quindi la aggiungerò grazie alla vostra alla vostra restituzione niente io se volete dire qualcosa voi team love potete dirlo io poi alla fine di questo incontro proporrò agli adulti una cosa che vi riguarda a livello proprio anche nazionale quindi vediamo se riesco a organizzare questa cosa folle e quindi avrete notizie però ecco se volete così avete qualche minuto per dire qualcosa per dare considerate che stasera diciamo le persone che partecipano sono persone adulte che avrebbero piacere in un certo senso di così far nascere dei circoli team love quindi se avete dell'ultimo secondo dei consigli da dare a noi adulti noi vi ascoltiamo volentieri altrimenti vi salutiamo ecco questo rivolto a Cristian Matilde Matteo Teresa Ludovica Federica e Vittoria ecco se volete dare un consiglio agli adulti se no ci dice soltanto ciao e vi liberiamo io Sara ti volevo dire che ho trovato interessante il pezzo dove praticamente spiegavano che andavano nelle scuole a fare queste letture quindi potrebbe essere una cosa che potremmo organizzare perché è carina questa ce la segniamo Vittoria sono d'accordo bene poi prendo appunti dai professori per tutta la questione ma secondo me con la vostra prof di italiano ce la facciamo tranquillamente quindi me lo segno grazie Vittoria altri team se volete prima di salutarci dare consigli agli adulti fate pure allora io vi saluto e dico a soprattutto tutti i grandi di leggere tanto ai ragazzi come ha fatto appunto con noi il professor Bargiacchi che ci ha sempre letto dall'inizio delle medie e niente ringrazio appunto il professore e tutti i ragazzi che hanno reso possibile appunto anche il nostro gruppo grazie a te Cristian allora io se posso volevo dire per prima cosa intanto anche di ringraziare il nostro prof Bargiacchi perché appunto fin dalla prima ci ha sempre fatto letture dopodiché appunto volevo darvi il consiglio di non smettere mai comunque di leggere appunto ai ragazzi di continuare a fare i più eventi possibili perché questi eventi sono veramente bellissimi sia da parte dei ragazzi sia appunto per quelli che li ascoltano e sono veramente delle esperienze che dovrebbero provare tutti perché sono delle emozioni uniche quindi ringrazio e saluto a tutti io invece voglio dire di comunque organizzare molti laboratori perché quando abbiamo organizzato il laboratorio per Halloween mi sono resa conto che siamo riuscite a coinvolgere anche i bambini più piccoli nelle letture e farli partecipi nei lavoratori ed è una cosa molto bella che anche bambini molto piccoli tipo di 4-5 anni riescono a essere comunque partecipi alle letture e non è una cosa molto semplice grazie Fede da se ci volete dire qualcosa noi siamo tutti orecchie ragazzi se volete aggiungere qualcosa volete dare un consiglio in più non vi vergognate senza obbligo ovviamente ci secondo me intanto ringraziare la mia professoressa d'italiano la professoressa Rossi che ha aperto questo bellissimo circolo di lettura insieme alla professoressa Soviero e secondo me avere un circolo di lettura nelle proprie scuole è importante perché noi ragazzi abbiamo bisogno di leggere soprattutto ora che la lettura è un po' sottovalutata perché ci sono i telefonini i computer quindi non si sta più tanto a leggere secondo me invece leggere è importante perché ti apri la mente ti apri tante strade grazie Ludovica che a volte un po' di incoraggiamento serve perché a volte noi adulti poi ci arrendiamo quindi come avete detto voi continuare è vero Matteo e Teresa volete dire qualcosa? vai no anch'io sono un po' dell'idea che leggere avere proprio degli spazi comuni dove leggere con persone comunque della nostra fascia d'età ma anche non solo anche più alta o più piccoli di noi sia importante sia nella scuola però anche non so se qui oggi in riunione ci sono anche altre persone interessate in altri ambiti però secondo me è importante anche aprire delle zone di lettura più proprio nella città oppure più in generale fuori anche dall'ambiente classico fuori dal contorno proprio delle quattro mura della scuola dove stiamo tanto stiamo tre torri a settimana ci andiamo praticamente tutti i giorni e quindi anche staccare poter fare qualcosa di di bello che ci piace secondo me è molto importante grazie Matteo ti confermo che fra gli ascoltatori insomma fra i partecipanti stasera sicuramente c'è una libreria perché l'ho vista e poi ci sono anche sì altre persone che per esempio anche io stessa non sono una professoressa no neanche una maestra quindi sì sicuramente sono persone anche che sono al di fuori della scuola quindi raccoglieranno molto volentieri penso questo tuo inviso grazie anzi perché è un altro aspetto interessante perché a volte noi adulti ci chiediamo boh sarà interessante farli venire in libreria e dalle vostre parole si capisce che sì anche fuori va bene grazie Teresa vuoi dire qualcosa? quello quello le cose importanti sono già state dette è importante continuare a leggere incontrarsi soprattutto dal vivo possibilmente perché è molto più bello guardarsi negli occhi che tramite lo schermo di un computer ecco bene grazie Teresa io la mia idea folle riguarda proprio questo farvi incontrare una volta almeno al di fuori del computer vediamo se ce la facciamo perché comunque siamo dislocati ma nemmeno troppo lontani quindi allora io direi per i teen vi ringrazio e vi ringraziano anche in chat tutti perché è importante ascoltare le vostre testimonianze quindi grazie siete liberi liberi di andare se volete restare restate un po' e poi uscite quando volete insomma siete totalmente liberi diciamo che adesso inizieremo una parte un pochino più teorica per poi lasciarci in fondo invece una bella parte che caratterizza i tavoli di lavoro in cui insomma proveremo a vedere se riusciamo ad essere operativi su su certi fronti quindi intanto ragazzi ragazze siete Federica Vittoria Cristian Matilde Matteo Teresa Ludovica grazie infinite grazie di cuore siete liberi e libere di uscire quando volete grazie davvero per le preziose parole consigli tutto quanto e grazie anche a Tina scusate io non l'avevo vista entrare Tina tanto dopo ti chiameremo in causa come coordinatrice del team love di di Quarata allora di Quarata ciao 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 ragazze ciao a tutti ciao ciao grazie ciao grazie a voi ciao ciao allora arrivederci a tutti ciao faccio un attimo ricondivido le slide quindi adesso entriamo appunto nella parte del tavolo di lavoro per cui vedremo un attimo insieme come cioè ricostruiamo un po' quello quello che ci siamo detti ma prima di partire su questo aspetto condivido solo una slide e poi darò invece la parola a Lina se è collegata che ci ci offre diciamo così un'altra un'altra prospettiva ora Lina prima l'ho vista eccola ciao Lina ci sei allora magari giusto per farvi così per darvi un'idea no io coordinatrice circolo love crete senesi quindi il team love è nato al di fuori della scuola con come avete un po' capito con delle letture a scuola poi abbiamo avuto David Bargiacchi quindi con il team love di Pieve a Nievole poi Alessandra e Tina invece con il team love di Quarrata nati come avete capito all'interno delle mura della scuola quindi abbiamo visto due tipologie fuori dalle mura della scuola dentro alle mura della scuola ora appunto abbiamo l'ultimissima così testimonianza di Lina che è solo lei stasera ma ha un sacco di team anche lei solo che non glielo non glielo avevo chiesto perché insomma eravamo già tanti dopodiché dopo che ha parlato Lina andremo veramente appunto a vedere nel dettaglio come si fa quali sono gli step lascieremo a voi poi la possibilità di farci tutte le domande del caso quindi come si fa effettivamente e poi vorremmo concludere appunto con un paio di idee pratiche perché questo è come vi dicevo un tavolo di lavoro per cui insomma l'idea non è noi riempirvi di nozioni ma è effettivamente lavorare su qualcosa e iniziare a mettere un po' le basi quindi Lina è bibliotecaria della scuola poi ve lo dirà lei quindi abbiamo un quarto esempio di un circolo TIN nato tra l'altro su Arezzo che è un po' una realtà che mi interessa poi dopo descrivervi brevemente sempre a proposito di che cosa possiamo fare per cui abbiamo all'interno della biblioteca che è una biblioteca scolastica ma che si apre anche ad altre ad altre persone come vi dirà adesso Lina e poi partiamo con le slide come promesso all'ora di merenda sono perfette perfetto allora ciao buonasera a tutti sono Lina Marzullo sono una docente non più idonea all'insegnamento per motivi di salute e di conseguenza abbiamo ci siamo ingegnati questa posizione che era la docente bibliotecaria all'interno della scuola la scuola non aveva due anni fa non aveva una biblioteca scolastica o almeno aveva un magazzino che era adibito per soltanto come deposito ci siamo adoperati al punto che questa biblioteca da biblioteca scolastica è diventata addirittura biblioteca territoriale siamo riusciti a fare un po' di pulizia all'interno della scuola togliere tutti i vecchi libri riassortire abbiamo ricevuto tutti i due finanziamenti sia lo scorso anno che quest'anno e di finanziamenti franceschini mi sono adoperata scrivendo in tutti i gruppi facebook nei gruppi alle case editrici chiedendo che dicendo che era una biblioteca nascente che volevamo dei libri nuovi sui nostri scaffali siamo partiti con non vi nascondo 219 volumi ora vantiamo oltre 8000 volumi nell'arco di due anni siamo una realtà affermatissima sul territorio di una zona di Arezzo che è la zona di Saione molto difficile perché abbiamo un 90% di studenti che è bengalese e pakistano il che è difficile confrontarsi con questi ragazzi in particolare sulla lettura siamo partiti a settembre scorso con un circo anzi a maggio scorso ha cominciato il circolo lab di Arezzo a venire nella nostra struttura a proporci delle letture a settembre abbiamo deciso di mettere su pian pianino anche noi un team lab il team lab sta prendendo pian pianino piede i ragazzi vengono con un entusiasmo incredibile e per ora diciamo che questo ci ci rincuora molto perché i ragazzi trovano nella biblioteca uno spazio nel territorio che non saprebbero cosa fare loro vengono per prendere il libro in prestito rimangono per stare in compagnia si portano il libro del compito è diventato un luogo di ritrovo dei nostri ragazzi sono diventate due sale molto accoglienti prima era una poi il comune ha visto questa affluenza ci ha aperto anche una porta tra due aule che non erano più in funzione per questo due aule comunicanti ed è una realtà che sta nascendo per questo noi grosse esperienze ancora di lettura per gli altri non l'abbiamo ancora fatto a differenza dei ragazzi che hanno testimoniato prima insomma però vi volevo dire una cosa che io ho trovato ad esempio negativa il team love è partito è partito bene veniva il circolo love a leggere per noi ci siamo fatti prendere un po' la mano ah bello 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 facciamo leggere anche i nostri ragazzi allora i ragazzi devono avere devono essere ben solidi su una realtà del genere perché quando loro gli abbiamo proposto di iniziare a leggere che volevamo registrare per fare una una registrazione per radio love si sono spaventati tra virgolette che trovavano scuse per non venire il pomeriggio perché il martedì successivo dovevamo registrare per radio ci siamo accorti con due settimane che questa cosa non era positiva assolutamente che i ragazzi si stavano preoccupando della loro performance di conseguenza abbiamo detto no aspetta forse questo li spaventa torniamo indietro ora abbiamo ricominciato nuovamente il circolo love legge per loro e loro prendono portano quello che gli è piaciuto prendono dallo scaffale un libro che gli interessa anche perché capite che da noi i nostri studenti non hanno libri a casa e difficilmente sul momento molte volte vanno a scegliere sullo scaffale il libro che gli piacerebbe leggere e lo propongono così che poi tra di loro c'è questo scambio questa mi è piaciuta questa è difficile abbiamo iniziato con Klaus e i ragazzacci gli piace questo personaggio di conseguenza stiamo nascendo stiamo nascendo ora però è una bellissima realtà è una realtà che devo dire all'interno di una scuola è una nuova proposta di lettura laddove i docenti non fanno in tempo a poter leggere durante le ore perché purtroppo non il programma deve andare avanti così si dice però a noi il programma significa che un ragazzo di terza media è venuto a prendermi in prestito il libro le mie prime parole tavola sedia banco perché non conosce neanche le prime parole proprio il libro il cartonato un libro che avevamo per i bambini piccoli capite che la nostra realtà è veramente difficile non sono tutti così ma un dieci per cento è anche a questo livello per questo noi dobbiamo proporci con delle letture semplici dei libri stampato maiuscolo però la realtà sta prendendo piede e vengono persone anche dal territorio abbiamo le ex alunne che la settimana scorsa che ora sono al liceo sono venute a trovarci e hanno deciso di frequentare il team lab per questo una realtà territoriale bella difficile ma molto accattivante per tutti quanti grazie se avete domande sulla biblioteca poi posso rispondere a quelle grazie a tutti buona serata grazie a te Lina grazie mille anzi grazie per questa bella notizia che quando ci siamo sentite non me l'avevi detto delle ragazze che sono tornate quindi ecco mi fa molto piacere tra l'altro ecco io ho invitato Lina perché mi piaceva dare un'idea di quante sono le possibilità poi lo vedremo per cui non ci sono delle sì ci sono alcune diciamo regole fisse ma intorno a quelle poi ci possiamo costruire moltissimo dando voce e spazio ai ragazzi e con Lina ci eravamo anche confrontate appunto ma la racconto che sono detto Lina secondo me è usile raccontarlo perché altrimenti da un incontro così magari può emergere no che yeah siamo tutti bravissimi ci viene sempre tutto benissimo e invece poi insomma non è così ci sono sempre delle difficoltà e i tavoli di lavoro in generale sono una buona pratica anche per questo perché mettersi insieme confrontarsi e dire io ho riscontrato questo problema l'ho risolto così ah ok allora magari lo potrei fare anche io no cioè il tavolo di lavoro non è diciamoci quanto siamo bravi ma in realtà è diciamoci sì quanto siamo bravi raccontiamoci le cose che funzionano bene per replicarle ma raccontiamoci anche se abbiamo avuto delle difficoltà come le abbiamo superate oppure parliamone per insomma ecco in un certo senso anche poi appunto superarle insieme e tra l'altro Lina quello che dici poi tornerà nelle slide nelle slide famose che adesso giuro vi mostro immediatamente riparto da questo allora intanto noi sappiamo che l'av lettura ad alta voce è si tratta di volontariato ok quindi tutto quello che è qui è giusto per darvi una cornice siamo nella cornice del progetto Ondalunga stiamo parlando di come aiutare i ragazzi e le ragazze a costituirsi in circoli team love quindi di lettori ad alta voce si tratta di lettura ad alta voce su base volontaria ora qui ci sono cinque buoni motivi per fare volontariato leggendo io mi permetto di dire che i ragazzi e le ragazze che hanno parlato prima ce li hanno riassunti alla perfezione ok quindi leggere per gli altri è dare e ricevere e ce l'hanno detto siamo andati a leggere e poi Cristian addirittura ha detto non sapevo come cioè non so come descrivere quello che ho provato leggere per gli altri è trasmettere la passione per la lettura e anche questo ragazzi ce l'hanno detto hanno detto continuate a leggere per noi leggere per gli altri ed educare all'ascolto perché insomma quello che abbiamo fatto all'inizio era un po' anche passatevi il termine una piccola provocazione perché poi noi adulti parliamo di lettura ad alta voce ma come siamo come ascoltatori una domanda secondo me a volte ce la dobbiamo fare leggere per gli altri e con gli altri ci fa sentire vivi e socialmente utili perché lo vediamo possiamo andare a leggere in tantissimi contesti anche in contesti svantaggiati che è un po' diciamo l'ambito da cui è partita l'hav leggere per gli altri è creare legami perché si creano legami sicuramente con chi ti ascolta ma si creano legami anche con gli altri partecipanti del gruppo come avete visto con gli altri lettori volontari noi ragazzi e le ragazze ce l'hanno detto ci incontriamo dopo la scuola Teresa ci ha detto finalmente vedo i miei compagni di classe negli occhi anziché vederli di spalle è importantissimo e quindi ecco questi sono su carta i cinque buoni motivi per fare volontariato che sottolineo insomma i nostri ragazzi e le nostre ragazze ce l'hanno ce l'hanno detto dunque qua vi ho messo appunto veramente due cose che insomma sono state affrontate anche nell'altro tavolo ma per ricordarci appunto che l'hav è un movimento di volontari e volontarie per la lettura che nasce all'interno dell'associazione Nausica e che i volontari e le volontarie si organizzano in circoli locali quindi chiedo scusa a chi è già un lettore love questa cosa già la sa bene ma per chi invece stasera si approccia per la prima volta questa è un'informazione importante no? perché anche il come cioè proprio fattivamente quindi ogni ogni realtà territoriale ha il proprio circolo potete avere ad esempio il circolo love di Pisa il circolo love di Arezzo il circolo love team love Pieve a Nievole io per esempio che vivo in provincia di Siena e sto nella zona delle crete senesi e c'ho volontarie un po' da tutto il territorio non ci siamo dette chiamiamoci Siena ci siamo dette chiamiamoci crete senesi così arrivano un po' più di persone per cui diciamo su base territoriale i circoli sono di solito fondati da adulti o comunque diciamo da maggiorenni e poi ci sono i circoli team love che sono il cuore insomma l'argomento di stasera che hanno iscritti al di sotto appunto dei 19 anni dei 18 e questa è un po' la realtà che sta crescendo sicuramente in questo in questo momento per cui per chi ad esempio volesse diventare un lettore love e ha più di 18 anni quello che è il percorso lì se noi diciamo vai sul sito guarda qual è il circolo love più vicino a te territorialmente e ti associ a quel circolo per i team invece diciamo un po' diverso ora lo vediamo strada strada facendo allora io avevo preparato un piccolissimo a fondo anzi l'avevo ripreso dall'altro incontro su che cos'è la lettura ad alta voce lo passo un po' veloce casomai ci torniamo dopo perché vorrei lasciare un po' di tempo in più per le vostre domande però mi interessano i valori e i presupposti di chi legge ad alta voce e ci tengo a dire io diciamo sono stata anche molto emozionata nel sentire i ragazzi e le ragazze parlare perché non erano assolutamente preparati cioè noi gli avevamo detto quali sarebbero state le domande e gli abbiamo chiesto di raccontarci la loro esperienza ma senza come se la sentivano loro e quindi in un certo modo anche per noi coordinatori adulti poi non so Davide Alessandra me lo direte voi è anche un po' una cartina al tornasole cioè se lo stiamo facendo bene nel senso gli abbiamo imposto qualcosa li abbiamo obbligati a fare qualcosa oppure è passato veramente il messaggio io ad esempio prima nelle slide in questa scusate ve la faccio vedere tanto è qui sono stata tanto felice quando Alessandra mi ha mandato le foto in cui si vedevano i ragazzi che mostravano l'albo questo perché perché qualcuno ha letto loro magari mostrando l'albo che è una cosa a volte per gli adulti difficile da fare no a volte magari un adulto può dire oddio ma a me mi si intrecciano gli occhi è faticosissimo leggere mostrando l'albo però è fondamentale perché in un albo ci sono le immagini le illustrazioni che vanno di pari passo col narrato della storia e quindi di conseguenza il fatto che i ragazzi e le ragazze legano mostrandolo ora questa qua su no ma perché si tratta di un romanzo e quindi di fatto lo leggi senza mostrare le immagini che non ci sono questo significa che semplicemente magari hanno visto come lo fa l'adulto e loro tranquillamente l'hanno rifatto senza poi passare da corsi particolari e questo secondo me è anche un aspetto insomma interessante che ci tenevo a sottolineare per cui a proposito appunto dei presupposti che non è che noi glieli dobbiamo dire così allora ragazzi ci deve essere democrazia cognitiva e sociale no assolutamente ma l'idea è cioè qual è la nostra postura quando ci rapportiamo a loro come qual è la nostra postura quando leggiamo ok che poi rubano tutti noi insomma rubiamo con gli occhi chi più chi meno però quello che passa poi è anche il nostro essere no in quel contesto per cui questo ecco è una slide per noi adulti per ricordarci in che postura ci dobbiamo poi collocare quindi chi legge ad alta voce sta facendo un atto di democrazia cognitiva e sociale perché leggere ad alta voce significa rendere tutti i partecipi di quella storia anche chi magari a quella storia non può accedere perché non ha il libro a casa perché non sa leggere perché non può leggere e così via c'è una relazione quindi leggere una storia è mettersi a tutti gli effetti in relazione c'è uno scambio le storie sono un dono per cui non è che allora ora tutti zitti no anche cioè è un dono che io faccio la storia sta al centro per questa ragione a volte no avete sentito anche ragazzi ognuno legge come come vuole leggere non c'è mai un correggi la dizione l'intonazione non c'è problema se ci blocchiamo su una parte andiamo avanti non sta succedendo non succede niente non è non è un atto performativo poi ci sono degli attori bravissimi che leggono e lo fanno quello è il loro lavoro ma questo non è la lettura ad alta voce su base volontaria è un'altra cosa un altro presupposto è quello diciamo è l'idea che le storie sono di fatto un'esperienza scusate un'esperienza vicaria ok quindi io attraverso questa storia un po' come quando Christian leggeva la storia del turista americano ucciso noi l'abbiamo un po' vissuta no quella quella storia lì o anche quando appunto abbiamo sentito Sofì siamo siamo dentro e le storie no come viste non solo come un dono ma anche come un patrimonio di esperienze emozioni sentimenti scenari di cui le persone hanno bisogno per comprendersi comprendere il mondo che ci circonda allargare i propri risonti costruire la propria identità evadere sentirsi parte di una di una comunità questi sono tutti i presupposti che noi ci dobbiamo ben ricordare quando ci approcciamo alla lettura ad altavoce e che ai ragazzi e alle ragazze dovranno poi passare in altro modo vi ripeto non possiamo buttare questo slide su di loro assolutamente no per loro sarà semplicemente esperire quelle storie per cui se noi li avremo letto come ci hanno detto continuate a leggerci tante storie diverse avranno visto tanti scenari diversi tanti personaggi diversi avranno inconsapevolmente anche però in un certo senso allargato i propri orizzonti venendo proprio a noi poi su questo tornerà anche David dopo quindi ci siamo raccontati come funziona il movimento quali sono i capisaldi ma di fatto come si proprio costruisce e io ho usato questo termine virgolettato perché è un po' un mettere dei mattoncini uno sopra l'altro in un certo senso partiamo da esposizione alla lettura ad alta voce tutti quando gli abbiamo chiesto com'è che avete deciso è perché comunque eravamo entrati in contatto con loro attraverso la lettura cioè qualcun altro ha letto per loro a nessuno di loro è stato chiesto vabbè che per caso così ti andrebbe ti vedo spigliato si andrebbe di leggere ad alta voce cioè gli è stato chiesto magari dopo un lungo periodo in cui qualcun altro aveva letto ad alta voce per loro quindi dopo questo periodo di esposizione alla lettura ad alta voce si può iniziare con delle piccole attività di service learning che sono quelle che un po' ci hanno raccontato per cui io vado a fare una lettura alla scuola primaria vado a fare una lettura alla scuola dell'infanzia quindi dei piccoli esperimenti in cui io di fatto imparo facendo qualcosa perché comunque anche nelle foto che abbiamo visto quando hanno fatto per esempio il laboratorio su ciccia pelliccia anche gestire è vero che sei in una classe ora poi magari Alessandra ce lo racconterà anche lei però impari in un certo senso anche a gestire un gruppo di bambini più piccoli gestire il materiale ti trovi di fronte anche se questo magari è un extra rispetto alla lettura ad altavoce però lo stesso lo possiamo dire con la lettura gestisco l'attenzione capisco se magari i bambini cala l'attenzione come posso fare quindi questo dopodiché dopo che loro hanno fatto un po' di esperienza così di service learning possiamo dire esperienze forse un pochino più protette a quel punto quando sono pronti per spiccare il volo possiamo facilitare l'attivazione di servizi stabili ed anche l'organizzazione magari di altri eventi per cui un servizio stabile potrebbe essere andare a leggere presso la casa di riposo o l'RSA anzi ora si chiamano così o altri magari per i più grandi potrebbe essere andare a leggere moltissimi ragazzi delle scuole superiori mi stanno chiedendo di poter andare a leggere al carcere oppure anche per esempio all'ospedale quindi una volta che diciamo si sono fatti un po' le host hanno fatto delle esperienze a quel punto sono pronti per andare nel mondo volare un po' più alto diciamo così e quindi a quel punto possiamo ipotizzare di aiutarli ad attivare dei servizi ovviamente come ci siamo detti il covid non aiuta perché ancora le RSA per esempio hanno insomma è complesso entrarci gli ospedali è complessissimo quindi insomma speriamo non lo so speriamo nel 2023 che qualcosa un pochettino ancora di più si allenti serve anche in ultima analisi cioè in ultima analisi l'ho messo per ultimo ma non è poi così ultimo questo è proprio dal punto di vista burocratico serve un circolo LAV di riferimento per cui per esempio l'INA che prima ha parlato di Arezzo ad Arezzo c'è il circolo LAV Arezzo e poi c'è anche il team LAV o perlomeno se non avete il circolo LAV di riferimento serve comunque un coordinatore maggiorenne che possa in un certo senso fare quello che vediamo nella slide successiva per chi si può leggere ad alta voce un po' ce lo siamo già detto quindi passerei un pochino più veloce su questo cosa fa un team LAV questo è fondamentale perché potrebbe passare l'idea sbagliata che un team LAV debba per forza leggere ora noi stasera abbiamo visto dei team LAV che bene o male hanno letto ovviamente ma cosa hanno fatto ci hanno consigliato hanno fatto delle proposte parlano perché si come ci hanno detto si incontrano parlano parleranno di libri ma parleranno probabilmente anche di quello che quel libro come diceva Matilde quando ci incontriamo così decidiamo un po' anche quali sono le letture da fare per il futuro per cui probabilmente parleranno anche del perché un libro è o non è adatto a quel determinato momento leggono possono leggere ad alta voce ma possono leggere anche autonomamente e ascoltano questo l'avevo messo l'ho detto per ultimo l'ho messo in alto perché di fatto e qui mi interessava molto infatti che Lina parlasse perché non è non sono obbligati cioè se hanno il piacere di stare insieme di stare riuniti intorno alle storie ma ancora per loro non è il momento di leggere ad alta voce per infiniti motivi che possono essere difficoltà linguistiche che un disturbo specifico dell'apprendimento magari importante per cui rende la lettura insomma complessa o altri problemi nessuno cioè l'importante è che questa persona o queste persone vengano accolte nessuno dice no tu non leggere ad alta voce quindi non puoi far parte del team lab assolutamente ad esempio Federica prima ha raccontato della maratona di lettura al buio quando noi abbiamo fatto la maratona di lettura al buio ovviamente io c'ero non ho letto ma oltre a loro due che leggevano hanno letto altri ragazzi e qualcuno di loro che non se la sentiva di leggere ha aiutato a gestire tutto l'evento cioè voi immaginate vi eravamo al buio in un sottoscala di un teatro per cui c'è stato chi magari ha cioè si è messo a fare abbarricata dai bambini per non farli perché poi leggevamo bambini più piccoli quindi chi si è occupato proprio in un certo senso come se fosse la security per cui io non leggo ma questa cosa la posso fare gestisco gli spazi qualcuno che invece ha detto no sapete che faccio vado fuori faccio dei rumori magari alla finestra in maniera tale che qualcuno si spaventi quindi diciamo non è tu fai parte del circolo ti love se non te la senti di leggere non importa puoi darci dei consigli bibliografici puoi darci il tuo parere su una determinata storia puoi supportarci nella gestione di questo cioè nell'organizzazione di questo determinato evento perché poi un evento significa anche portare libri magari sistemarli quindi un team love può fare anche tutte queste cose non è obbligato a leggere e mi fa piacere che sia insomma sia venuto fuori anche dalle testimonianze dei ragazzi un paio di volte questa parola nessuno ci ha obbligato non siamo obbligati quindi questo è importante e sta alla base infatti la controparte di cosa fa un team love è cosa fanno gli adulti all'interno di un team love è virgolettato all'interno perché di base gli adulti si fanno da parte quindi ci sono ma è come è come se non ci fossero supportano sostengono facilitano facilitano anche per esempio Vittoria a me prima mi ha detto Sara mi piacerebbe quindi io da coordinatrice alzerò il telefono e cercherò di capire come possiamo andare tutte insieme quindi in quale orario magari andremo all'infanzia nel pomeriggio che loro non hanno scuola quindi facilitano in questo senso facilitano magari mettendo a disposizione i libri perché non è detto che ci siano biblioteche non è detto che tutti i ragazzi e le ragazze abbiano mai fatto un accesso in biblioteca per cui magari il facilitare può essere anche andiamo tutti in biblioteca prendiamo i libri che ci servono per leggere oppure a casa ho una libreria piena di libri venite li scegliete voi quelli che leggerete ok quindi mettersi a disposizione sempre come dire ci sono a proposito di Sofì che cammina sul filo del funambolo sono qui sotto come rete di protezione se cadi ma vai vai tranquillo vai tranquilla sul filo insomma ecco un po' questo dare gli strumenti affinché loro possano poi farlo farlo da soli e un adulto del team lab legge anche tanta letteratura per bambini e per ragazzi perché altrimenti diventa complicato aiutarli a così scegliere le storie infatti io poi mi sono mi sono presa così questo libro che si intitola perché dovresti leggere libri per ragazzi anche se sei vecchio e saggio che è un titolo provocatorio e dopo vediamo se rimane del tempo vi leggo un pezzettino e quindi ecco questi sono un po' diciamo i punti chiave no? come abbiamo visto come si fa quindi ai ragazzi e alle ragazze non li possiamo buttare ma gli devono avere in qualche modo esperito il piacere di qualcuno che legge per loro gli facciamo fare delle piccole esperienze che poi diventeranno sempre più grandi li supportiamo li sosteniamo e così via quindi abbiamo visto un po' così come proprio l'ABC ora io da questo momento in poi invece lascio la parola a David perché lui a me sembrava interessante per voi che siete in ascolto avere anche un po' il punto di di vista di chi lo fa da dentro la scuola perché da fuori per assurdo magari è più difficile perché non hai tanti bambini tante bambine però a livello proprio burocratico la scuola ha dei nodi e snodi che possono essere raccontati solo da chi sta dentro la scuola senza nessuna diciamo offesa per chi è fuori né per chi è dentro però ecco quindi io lascerei la parola a David per diciamo per queste slide qui nel frattempo ho visto in chat c'era qualche e poi direi che dopo la parte di David lasciamo spazio alle domande a meno che non ci sia qualcuno che tipo gli scappa proprio una domanda che non non la riesce a tenere più altrimenti ecco io darei darei la parola a David grazie grazie insomma quello che voleva essere un po' un affondo più tecnico in realtà sarà un già sentito perché in questa in questa ora e mezza che abbiamo passato insieme anche di più già è stato detto tantissimo e già torniamo tutti alle nostre realtà locali arricchiti di un sacco di spunti tra l'altro ci tenevo anche a dire una cosa in più cioè in questi tempi che stiamo vivendo un po' il post pandemia quindi anche nella scuola le misure di distanziamento si sono si sono si stanno gradualmente attenuando e però iniziano a emergere tutta una serie di problematiche che sono collaterali a questo e che ci aspettavamo anche in qualche modo e mentre sentivo gli altri interventi stavo appunto riflettendo sul fatto che la vera azione che oltre che essere di democrazia educativa veramente ci ricollega tutti cioè il vero denominatore comune è la lettura e la presenza e però anche di questi eventi a distanza abbiamo un enorme bisogno perché l'occasione per dirci anche senza per forza dirci che tutto funziona bene che tutte le cose e che tutte le esperienze sono positive cioè anche rimanendo con una postura volendo critica e centrata anche su quelli che possano essere le difficoltà però facciamo una grande azione di rinforzo ci stiamo rimandando un sacco di secondo me di aspetti positivi legati alla nostra attività e soprattutto sentire delle testimonianze dalla viva voce dei nostri ragazzi insomma ci dà la possibilità di continuare su questa linea perché se qui siamo è perché in questo crediamo quindi dobbiamo continuare a consolidare queste pratiche perché non danno forse dei risultati immediati anche se poi in realtà ce li danno da come ci dicono ma stiamo veramente costruendo un qualcosa di importante quindi io vado abbastanza rapido ecco è già stato detto lo ribadisco perché va detto con molta fermezza si fa l'attività del team love laddove c'è una pratica di lettura ad altavoce sistematica quotidiana intensa intensiva progressiva insomma quello che sono anche i filastri principi metodologici di leggere forte per esempio sono alla base di quella che deve essere l'attività che noi che noi proponiamo e è da quello quello che prima ad esempio diceva Lina Marzullo cioè quando sentivano mancare un attimo la possibilità di avere dei lettori volontari è perché appunto secondo me parzialissima e discutibilissima opinione però magari laddove si pensa più a portare avanti il programma con con buona pace del fatto che i programmi appunto ce lo diciamo da un sacco non esistano più da quasi 25 anni ma comunque aleggiano ancora sulle sulle nostre teste laddove ci concentriamo su quello e non si dedica a spazio è chiaro che nel momento in cui vai a chiedere a ragazze e ragazzi di leggere la vedano come un'esperienza aliena spaventosa e quindi si riesce con difficoltà e quindi quello che loro hanno fatto cos'è stato? è fare un passo indietro e ripartire dalla lettura e in effetti è l'antidoto per tutte le nostre per tutte le nostre paure poi sullo student voice su questa possibilità del service learning cioè il fatto di dare voce di dare di dare spazio e parola ne abbiamo ne abbiamo ampiamente parlato quello che secondo me è un'altra cosa interessante importante è la postura giocosa cioè noi dobbiamo sempre imparare a uscire un attimo dal nostro dal nostro ruolo cioè quindi dobbiamo un pochino un pochino secondo me lavorare anche sulla su quella che è la nostra idea di insegnamento perché qui stiamo collaborando a tutti insieme e ci e ci interfacciamo in un gruppo di pari siamo lettori volontari in quel momento e e questo ci consente di dare di dare rilievo di dare valore di dare ascolto a tutte le voci per esempio una cosa che io ho imparato da Martino Evangelista e dai gruppi che ho frequentato in questi anni noi iniziamo la nostra sessione di incontro quando io parlo di incontri noi dividiamo gli incontri interni da quelli esterni quindi quando andiamo fuori a leggere per qualcuno li chiamiamo eventi pubblici più o meno grandi altrimenti sono incontri interni negli incontri interni all'inizio dell'incontro ci diamo un nome ognuno si sceglie un nome va bene quello ce lo appuntiamo con una targhettina con un pezzettino di scotch e quello sarà il nostro nome che teniamo quindi si può giocare anche sulle identità e poi l'altra cosa fondamentale e qui mi sento di insomma riportare un po' la nostra esperienza è quella di coinvolgere il più possibile i collegi docenti qua la metafora più ovvia è quella del sasso nello stagno c'è quindi queste onde che si che si propagano e si allargano questo è fondamentale per diverse ragioni cioè quindi creare un buon gruppo di base è fondamentale per diverse ragioni io questo ho riscontrato anche andando nelle altre scuole per esempio conoscendo ho avuto la fortuna di conoscere fine Alessandra che poi Alessandra mi ha ringraziato ma in realtà io quando vado da loro sono il primo che impara anche perché fanno talmente tante cose talmente belle che è veramente veramente un'occasione e appunto questo è la postura che secondo me dobbiamo adottare siamo tutti su una direzione che è quella di di portare le letture in più punti possibili in più modalità possibili per farlo abbiamo bisogno anche di un gruppo di colleghe e colleghi che ci supportino in questo e io credo che se ne trovino cioè se ne può trovare in tutti i collegi anche in quelli più impostati su didattiche su pedagogie tradizionali secondo me c'è sempre qualcuno che si può provare a coinvolgere all'inizio si parte in pochi poi piano piano il coinvolgimento e l'entusiasmo sono contagiosi in questo senso noi per esempio io ho la fortuna di avere intorno un gruppo che e su questo magari poi torno nell'ultima nell'ultima slide un gruppo di colleghe e colleghi che si rendono disponibili per seguire gli incontri ovviamente noi non possiamo lasciare i nostri lettori team da soli quindi ci vuole sempre la supervisione per quanto poi è buona regola regredire un passo indietro cioè quindi fare un passo indietro noi però bisogna essere presenti e non si può secondo me affrontare a meno di non voler di non volersi immolare alla causa non si può nemmeno affrontare un anno in cui ci siano ci sia un impegno che si ripete per 35-40 volte cioè altrimenti diventa diventa un'azione sotto la quale si rischia di soccombere per ovvie ragioni dovute all'eccessiva presenza cioè quindi bisogna anche poter contare sull'appoggio di altri e questo secondo me si fa in due modi facendo vedere e facendo parlare i ragazzi cioè quindi facendo vedere che ci sono queste attività perché tutte le testimonianze convergono sulla stesso punto cioè la lettura funziona quando noi si fa questo entusiasmo poi diventa tangibile e porta anche dei risultati che la ricerca ormai ci fa vedere in maniera molto chiara se poi vogliamo andare avanti possiamo dire che questa apertura all'esterno per esempio l'abbiamo già detto gli incontri in continuità ne abbiamo parlato tanto gli eventi interni eventi interni alla scuola si possano fare all'open day anche questo io credo sia molto attrattivo per esempio quando vengono fatti gli open day nella primaria cioè nelle scuole secondarie di primo grado io lì che insegno quando vengono le famiglie e i futuri studenti dalle primarie insomma avere un circolo di lettura far vedere che si fa questo è fortemente attrattivo spettacoli noi per esempio abbiamo il corso musicale faremo una piccola incursione a teatro prima dello spettacolo musicale della nostra orchestra ci sarà qualcuno anche tra i musicisti che è anche un team love che magari legge cinque minuti per portare questa piccola pillola augurale le letture per i genitori anche su questo torniamo fondamentale il coinvolgimento delle famiglie dobbiamo dobbiamo stabilire un patto dobbiamo per quanto faticoso sappiamo benissimo che lo è però è necessario poi si può lavorare insieme alle pubbliche amministrazioni laddove ovviamente se ne trovi di disponibili e dei gemellaggi insomma abbiamo abbiamo parlato l'ultima parte è quella relativa all'aggiornamento bibliografico che è una materia infinita per esempio con con Sara abbiamo anche fatto ultimamente delle esperienze dove noi siamo stati incaricati di tenere degli incontri di aggiornamento bibliografico ma non c'è neanche da dirlo ogni volta che si partecipa a un corso a un incontro anche come questo io vengo via con almeno una decina di libri e di titoli nuovi segnati perché la fortuna che abbiamo oggi è una fortuna che ci disorienta ma è un bel disorientarsi è un bel perdersi è il fatto che appunto c'è una proliferazione di festival di titoli di collane editoriali di proposte di uscite che è sovrabbondante e appunto è una ricchezza perché vuol dire che insomma il mercato editoriale non è così sofferente sulla fascia che stiamo considerando cioè lo scolare e il prescolare forse sono quelli che tirano avanti quasi da soli tutta la tutta la barca del mercato editoriale cioè stiamo parlando della non ultimo della fascia di lettori più forti di tutti i nostri tra primaria e secondaria di primo grado a livello nazionale rimangono tra la categoria che legge più libri quindi questo ormai è un dato consolidato e quindi da lì bisogna partire proprio perché sono quelli che poi costruiscono la cioè sono i lettori del futuro mi ero fatta anche una prima di andare prima ecco di andare avanti volevo approfittare di una cosa importantissima che hai detto hai usato la parola patto e io questa parola la rimando perché ad ora è possibile stipulare i veri e propri patti di lettura ora io non so chi tra i presenti da dove insomma da dove arrivano eccetera però stipulare un patto per la lettura è un ottimo modo di mettere in rete amministrazioni comunali istituto comprensivo del del paese o della città le associazioni del territorio poi se volete sul patto per la lettura ci facciamo un attimo un affondo dopo che tra l'altro è un'iniziativa del CEPEL anche questa per cui siamo nella nella perfetta cornice però ecco siccome david usava proprio la parola patto mi interessava mettere un pin mettere una puntina qui e dire ricordiamoci che esistono infatti per la lettura esistono anche i fatti educativi però quelli sono già un pochino più magari complessi ecco niente poi dopo se qualcuno ha domande ci torniamo su questo scusa no no anzi grazie appunto perché sono tutte occasioni da questo punto di vista e niente a questo punto andrei sull'ultima mia slide io mi ero appuntato anche due due cose proprio pratiche perché appunto lavorando nella scuola in questi due anni ho preso un po' di appunti su quelli che sono gli aspetti che magari possono essere anche banalmente all'inizio si ignorano poi poi in realtà chi lavora nella scuola sa benissimo che c'è tutta una parte di autorizzazione circolari e tempi di segreterie di di approvazioni da parte di piani progettuali insomma è tutta una cosa alla quale c'è da stare molto attenti e per esempio anche per le autorizzazioni cioè quello è veramente un mondo che che dall'esterno secondo me è anche difficile da da comprendere ma chi nella scuola vive e lavora e opera sa benissimo che che non ci si muove al di fuori delle delle autorizzazioni della dell'informare la dirigente insomma di di fare in modo che tutto possa funzionare anche da un punto di vista delle delle tutele delle coperture assicurative quindi questa parte qua non va ignorata perché esiste e quindi bisogna anzi qui lancio un po' un come dire un invito cioè probabilmente potremmo anche pensare a formatizzare no questa questa proposta cioè fare in modo che esista anche una una modulistica condivisa io non so qua parlo parlo per inesperienza non so se a livello amministrativo si possa fare in virtù delle delle autonomie o dei regolamenti interni però anche questo potrebbe essere un aspetto da da tenere in considerazione perché a volte è una modulistica che va creata ex no cioè quindi bisogna bisogna comunque rivolgersi a tutte le a tutte le componenti quindi bisogna intrattenere intrattenere rapporti che vanno dai genitori ai DSGA ai dirigenti e ai collegi e stabilire appunto tutta questa tutta questa parte la parte che io consiglio vivamente quest'anno noi abbiamo iniziato a fare degli incontri in continuità appunto è il coinvolgimento di tutti gli ordini di scuola con i quali si ha occasione di collaborare anche internamente ai comprensivi soprattutto perché questa diventa una pratica diffusa cioè quindi fare in modo che la lettura sia qualcosa di praticato fa sì che poi ci sia una crescita ci sia una diffusione che viene naturale cioè se arrivano alla secondaria di primo grado che hanno fatto già esperienza di lettura è più facile che si coinvolgano e si attivino stessa cosa se arrivano alla primaria e all'infanzia hanno già fatto questo insomma la salita non è così così ripida un'altra cosa che mi sento di consigliare è fare una calendarizzazione ho messo con un punto interrogativo quadrimestrale degli eventi che cosa facciamo noi noi ci ritroviamo più o meno il circolo parte sempre ai primi di novembre grosso modo per noi perché il primo mese magari serve anche per per fare un po' la conta dei presenti e insegnanti e studenti facciamo un po' di calendarizzazione e ci diciamo bene siamo siamo 12 o 15 insegnanti siamo 20 o 30 studenti come ci dividiamo e qua e qua si lavora si lavora molto di foglie Excel no? cioè quindi si iniziano a fare quelle quelle tabelline infinite dove si segnano i nomi dove si segnano le presenze anche qua forse formatizzare un po' un po' le proposte potrebbe essere potrebbe essere una cosa che ci aiuta e poi appunto chiudo sulla gestione dei rapporti con le famiglie perché quello che stiamo dicendo è che è una parte delicatissima e anche molto anche molto difficile da gestire in qualche caso perché sappiamo benissimo che molto spesso si passa dall'eccesso si viaggia tra due eccessi a volte ci si trova di fronte a situazioni di estremo disinteresse o di eccessivo interesse quindi la via media la via virtuosa non sempre si trova però stabilire buoni rapporti e mantenere anche aperto il dialogo con le famiglie in relazione a quello che si fa anche in termini di pratiche di lettura secondo me è una cosa che ci può aiutare ci può dare dei vantaggi a far sì che queste attività proseguano quello che io ho visto e davvero chiudo è che appunto tra questi due eccessi poi ci sta in realtà nel mezzo tanto di virtuoso e ci stanno tante realtà di famiglie che si adoperano e che una volta interpellate danno anche un riscontro positivo e invogliano e fanno una grande parte quindi secondo me è doveroso coinvolgerle perché sono di fatto grandi alleate quindi in questo senso mi fermo tanto non ho più o meno ci siamo detti tutto ora è giusto anche che ci sia spazio per un po' di domande di interventi sì io nel frattempo ho interrotto la condivisione perché ho due slide finali in realtà solo di proposte però sì mi piaceva in questo momento lasciare la parola e lo spazio per tutte le domande grazie David della ricostruzione e direi che già quest'idea della modulistica ce la segniamo fra perché insomma me l'avevo detto un po' dall'inizio mi piacerebbe uscire da qui con anche delle proposte operative quindi sicuramente la modulistica penso che risolverebbe un po' tanti problemi per chi lavora appunto dentro la scuola quindi magari ecco da da ragionarla proprio come tavolo in che modo lo possiamo snellire io sì direi spazio libero alle domande considerate che potete fare domande a me a David Dallina ad Alessandra a seconda di quello che è anche il vostro cioè non siamo gelosi l'una dell'altra a seconda di quello che è veramente il vostro interesse e la vostra necessità ecco vi lasceremmo uno spazio alle domande dubbi curiosità anche domande proprio precise vi lasciamo la parola vi abbiamo stesi allora mentre pensate alle domande invece facciamo così eh vi ecco a lei certo ciao sono Tiziana ciao Tiziana eh da buon convento io sono un ex insegnante mi occupo adesso della biblioteca comunale e praticamente siamo un gruppo anche di volontari siamo nati per leggere insomma da anni eh leggiamo però senza essere eh circoli i love pensavamo da quest'anno insomma siamo entrati in contatto con Sara e poi abbiamo fatto un po' di giornate di aggiornamento eccetera e pensavamo appunto di associarsi ora io mh stavo vedendo che soprattutto con i ragazzi sono partiti dei circoli che lavorano all'interno della scuola quindi eh organizzarli tenerli avere degli spazi è abbastanza cioè più complesso da un certo punto di vista come diceva prima eh David insomma ci sono eh problemi dal punto di vista di trovare persone disponibili che siano con loro però è più facile perché i ragazzi hanno un ambiente protetto sicuro dove si ritrovano dove sono liberi di esporre le loro cose e quindi da un certo punto di vista sono tutelati anche se questo viene eh visto dal punto di vista delle famiglie diciamo ecco allora la mia domanda è questa dando per scontato che al limite potrebbe esserci la possibilità di istituire un circolo all'interno della scuola mh però a me interesserebbe aggangiare i ragazzi più grandi cioè anche quelli delle superiori e essendo ragazzi essendo un convento un paese piccolo i ragazzi sono distribuiti dappertutto quindi non c'è un istituto superiore di riferimento mentre potrebbe esserci la scuola media quindi eh cioè a quel punto chi entra in gioco chi ne ha la responsabilità eh ho sentito che ci deve essere un una persona diciamo maggiorenne responsabile e che può essere un membro di un circolo love però mettiamo che ne so cioè che poi tutto si magari ricade sulle stesse persone quale potrebbe essere l'aggancio con la biblioteca per esempio potrebbe essere mh un luogo dove poterle istituire ha bisogno di una sede propria eh scusate se questa è una domanda forse un pochino troppo specifica però eh mi interesserebbe capire le dinamiche per agganciare anche i ragazzi più grandi grazie ah Tiziana domanda ottima secondo me perché nel senso queste sono le domande che servono ci mette anche alla prova ci mette a dura prova tra l'altro perché non è una sola domanda sono tantissime io ero lì che dicevo no devo prendere appunti se no allora inizio a rispondere poi tanto vengono in mio aiuto anche i miei colleghi ehm allora per quanto riguarda io quando dicevo prima ho fatto parlare Lina ci tenevo perché su Arezzo eh abbiamo fatto insomma varie riunioni per il discorso dei team love ehm perché cosa succede la città insomma ci sono diversi istituti comprensivi quindi abbiamo ipotizzato questo siccome ci sono scuole che c'erano diverse scuole interessate non tutte ovviamente quindi l'idea era ogni scuola magari al suo interno fa il proprio circolo team che però fa capo a livello territoriale all'unico circolo la cioè è tutto la varezzo quindi circolo l'avarezzo e i ragazzi sono i ragazzi e le ragazze sono tutti circoli team love di Arezzo ma molto probabilmente si incontreranno quelli dell'istituto comprensivo x y quelli dell'istituto comprensivo z quelli dell'istituto comprensivo w ok in momenti diversi poi scellina che invece in biblioteca riesce ad avere un po' più di persone magari da altre scuole l'idea qual è quello che ci siamo un po' detti poi è tutto in progresso quindi ve lo sapremo dire magari a fine anno l'idea è iniziamo così quindi tanti piccoli satelliti e vediamo se poi magari a maggio giugno verso la fine dell'anno si riesce a fare una cosa che riunisca tutti è chiaro questo vuol dire che le insegnanti di riferimento sono comunque coinvolte c'è il lavoro da fare dietro c'è è chiaro perché un po' di coordinamento un po' di messaggi un po' di telefonate ci stanno però ecco questo è già un modo per dire rendiamo le cose un po' più semplici quindi tanti piccoli satellitini nei vari istituti comprensivi che poi quest'anno magari fanno un evento solo magari poi gli viene voglia si conoscono ne fanno un altro e così via per quanto invece riguarda il discorso degli istituti superiori ora mi dispiace perché stasera abbiamo persone da tutte le regioni ovviamente io abito in Toscana vicino a Buon Convento ci sono sicuramente Tiziana due insegnanti una da Poggi Bonzi una da Siena che non hanno potuto partecipare stasera ma che sono interessate quindi anche quello è un po' perché so come funziona cioè i ragazzi i ragazzi e le ragazze a Buon Convento ci sono ma vanno tutti in scuole diverse per cui come ci arriviamo stando anche un po' mi viene da dire sul territorio facendoci un po' magari anche vedere quindi da costruire ecco questo modo un po' di arrivare ai ragazzi è chiaro che come diceva David se lavori bene sui ragazzi della secondaria di primo grado adesso quindi ragazzi delle medie quando poi loro andranno alle superiori sarà comunque anche se si spezzettano tutti perché uno va al classico uno scientifico però poi ritornano comunque sanno che quello è un modo agganciare subito i ragazzi delle superiori è difficoltà sai i videogiochi è l'ultimo schema questo una difficoltà mille proprio perché come abbiamo detto qualcuno deve aver letto per loro temo che sia un po' complesso che qualcuno abbia letto per loro a meno che tu non conosca delle insegnanti che lo fanno però vediamo insomma ecco questa la possiamo la possiamo costruire io consiglio mio ti direi magari lavora sugli istituti comprensivi che ci sono lì intanto per costruirti un po' e poi avevi fatto anche una domanda sulle autorizzazioni giusto? Sulle responsabilità diceva quindi degli spazi anche sì dicevo sulle responsabilità perché per esempio i volontari hanno un'assicurazione quella di 10 euro penso che i ragazzi quando sono all'interno della scuola oppure si muovono come scuola hanno l'assicurazione della scuola costituendo un circolo all'esterno della scuola cioè devono avere un'assicurazione come i volontari diciamo maggiorenni oppure sì i ragazzi fanno questo è stato un caso anche di cui abbiamo parlato molto con il dirigente scolastico di Lina i ragazzi e le ragazze hanno l'associazione cioè pagano la quota associativa che è più bassa rispetto a quella degli adulti e hanno la stessa copertura assicurativa perché per esempio nel caso di Lina il problema che si poneva il dirigente qual era? Che lì in biblioteca nel pomeriggio non ci andavano solo i ragazzi e le ragazze della scuola per cui lui dice io comunque ho pure tutte le assicurazioni cioè a chi li lascio no? Cioè quando se arrivano arrivano via per cui cosa è successo che la scuola cioè il circolo LAV Arezzo degli adulti ha chiesto alla scuola l'utilizzo perché non è obbligatorio per i circoli LAV avere una sede assolutamente però si può chiedere l'utilizzo quindi il circolo LAV ha chiesto al dirigente scolastico l'utilizzo dei locali della biblioteca per gli incontri del team LAV a quel punto ovviamente i minori minorenni che sono che hanno pagato la quota associativa eccetera hanno tutti i fogli firmati dai genitori per cui nel senso a quel punto la responsabilità è il genitore che lo porta lì e se poi gli dice torni a casa da solo torna a casa da solo ecco questo invece chi lo fa tutto dentro la scuola per questo io ho chiamato Lina perché era interessante anche questo chi lo fa tutto dentro la scuola ha un'altra tipologia di copertura però comunque i ragazzi sono assicurati hanno la loro copertura anche perché da noi nel nostro istituto comprensivo nella nostra scuola media vengono i ragazzi anche dell'istituto ad esempio l'istituto Cesalpino che è un'altra scuola media e vengono il pomeriggio a leggere da noi di conseguenza anche loro hanno fatto la tessera per ragazzi del circolo di mi sembra due euro quota annuale per questo è una cosa fattibile e sono all'interno per questo sono assicurati tutti i ragazzi siamo all'interno della stessa scuola e però ci spostiamo abbiamo ci sono calendarizzate delle date per andare fuori anche noi un'altra cosa che mi sentivo di dire a Tiziana è che appunto come già è stato suggerito uno può anche provare a fare degli incontri un evento dove di ricognizione sul territorio si prova come dire a vedere chi risponde e in questo senso secondo me è necessario dirsi che almeno all'inizio la qualità prevale sulla quantità cioè noi non abbiamo bisogno per attivare le nostre azioni di numeri enormi cioè quello che ci tengo a dire quando noi abbiamo fatto il primo anno che era se era in piena pandemia era la seconda ondata pandemica era il novembre ottobre novembre del del 2020 sì e abbiamo aperto questo questo circolo che era tutto virtuale eravamo eravamo già in didattica a distanza con poca presenza molta distanza le classi erano quarantenate quasi di continuo e un po' come risposta anche emotiva abbiamo avuto subito di impatto una grande adesione anche quantità divano cioè quindi c'era io penso quasi un un venti per degli studenti della scuola secondaria di primo grado erano quasi una sessantina quindi numeri inizialmente altissimi poi negli anni ci siamo abbassati un po' con il numero e quell'esperienza fu veramente un fu veramente una fiammata perché partimmo forte poi però mancando appunto quello che è stato detto tante volte stasera soprattutto dai ragazzi mancando la possibilità di guardarci negli occhi dovendo registrare cose che venivano caricate l'effetto novità ha avuto un decremento notevole anche delle partecipazioni quest'anno noi siamo con numeri nettamente più bassi va bene quindi io come dire una venticinquina di studenti che da noi rappresentano più o meno un meno del 10% degli studenti della scuola però sono un numero gestibile sufficientemente nutrito e anche che dà la possibilità di organizzare degli eventi in maniera precisa e soprattutto la centratura lì va fatta cercando anche di vederla con una proiezione a quello che è il futuro cioè quindi quelli di terza insegnano a quelli di seconda passano i testimoni quelli di prima si avvicinano e osservano insomma bisogna iniziare a pensare un po' nell'ottica anche della bottega cioè quindi dell'ottica del laboratorio che si costruisce insieme e quindi quello che mi sento di dire è a volte si pensa che ci sia bisogno di numeri di chissà che cifre ma 5-6 persone motivate a fare riescano a mettere in campo un sacco di cose pochi ma buoni come dico spesso poi in realtà i numeri crescono naturalmente a volte decrescono anche ma ma cioè ci può stare ecco secondo me bene proveremo proveremo un pochino vedremo su quali direttive muoversi però grazie infinite davvero credo sia importantissima la comunicazione e il racconto delle esperienze veramente perché partire da zero siamo qui insomma che è un po' che ci pensiamo ci pensiamo e invece stasera insomma è servita veramente a tanto ecco io vi ringrazio veramente grazie a te Tiziana sì ora io ho fatto la battuta pochi ma buoni ma in realtà è davvero anche un po' questo lo spirito magari poche cose perché uno quando parti c'hai mille idee poche cose fatte bene che abbiano un senso curate e poi piano piano anche perché noi dico noi perché io vivo in un paesino minuscolo cioè anche a fare il numero è più complesso che fare numero in una magari in una città o insomma quindi ecco piano piano obiettivi realistici e e allargare la base cioè nel senso allargare la base di questa di questa adesione e e su quella costruire perché appunto io penso davvero che un gruppo di 5-10 persone ben motivate che e che lavora in sinergia fa tantissimo e poi poi da lì si costruisce sì e mi permetto di dire un po' il senso anche di questi incontri anche questo cioè è vero che siamo in tante regioni diverse però se creiamo una rete poi è più facile per tutti perché appunto come diceva David magari iniziamo a pensare a una modulistica che è quella e così via ecco io mentre aspetto le altre vostre domande ora ho parlato della parola modulistica quindi vi volevo solo far vedere due slide ma in realtà che è una scusatemi nel frattempo ecco se volete fare domande sapete che lo potete fare eccola qui allora a proposito di strumenti di modulisti eccetera vi volevo dire che a questo link che poi magari vi metto anche in chat è possibile scaricare il kit di attivazione dei circoli love e dei circoli team love per cui se magari stasera nel raccontarvi le esperienze ci siamo dimenticati qualche pezzettino più tecnico sicuramente ritrovate lì tutte le informazioni noi comunque siamo raggiungibilissimi tutti tramite mail io sono anche project tutor per la Toscana per questo progetto per cui insomma non c'è problema ecco magari il sabato e la domenica non rispondiamo alle mail ma vi giuriamo che poi il lunedì siamo tutti sul pezzo quindi questo questo sì e l'altra cosa che così vi lanciavo proprio in ultimo così nell'ultimo quarto d'ora era questa a parte appunto ovviamente dirvi che potete fare tutte le domande che volete ma io volevo fare due proposte di rete alle quali però aggiungerei anche quella quella di David quindi di pensare eventualmente ripensare a modulistiche la proposta la prima proposta che volevo fare era quella di pensare cioè se stasera siamo qui perché ci interessa facilitare la nascita dei team love quindi la prima proposta era pensare se abbiamo voglia di aiutare i nostri team ad essere un po' più partecipi per quanto riguarda il premio voi sapete che Nausicaa love ogni anno ha un premio insomma premia dei libri divisi per fasce d'età per cui ecco magari era capire può essere queste sono cose super generiche perché un mio chiedervi vi potrebbe interessare potrebbe essere interessante per voi che già avete circoli team love o per voi che ci state pensando avere magari un maggiore coinvolgimento da chiaramente definire perché sono così idee quindi da definire per quanto riguarda il premio team love e l'altra proposta che facevo era quella di proprio fare pensare a una gita ovviamente in questo caso è pensare a una gita non perché ci sia disponibilità di supporto economico ma perché se mettiamo io a me piacerebbe tanto portare le mie team almeno ad un festival di letteratura per bambini e ragazzi anzi per ragazzi o a mare di libri io qui ho messo mare di libri storia in cammino ma ce ne sono altri c'è book ce ne sono tantissimi ce ne sono un paio in sicilia ora io ho messo questi perché sono forse quelli un pochino più conosciuti e quelli forse più raggiungibili anche se insomma storia in cammino che a Firenzuola è praticamente è fra due valli però ecco l'idea è un po' questa abbiamo voglia non so di rivederci noi anche a questo punto spero di aver invogliato anche chi c'era a diventare un coordinatore un po' di un team love quindi abbiamo voglia noi coordinatori di capire se riusciamo a fare non so un pullman o un pulmino per andare a mare di libri a giugno che è semplicemente un condividere l'esperienza dire guarda io invece di io portarne due David ne porta tre Alessandra ne porta quattro siamo tutti insieme quindi a quel punto è il gruppo di venti se ci riusciamo noi coordinatori magari siamo quattro quindi siamo quattro adulti che possono supervisionare il gruppo e ecco e a quel punto magari andiamo anche con un mezzo unico che abbatte un po' i costi di trasporto quindi ecco un po' così se abbiamo voglia di stare in rete per anche pensare a altre cose quindi ecco questa era era la fine delle mie delle mie proposte per cui interrompo di nuovo e abbiamo ancora dieci minuti se avete piacere per domande per rispondere a queste mie proposte se vi fa piacere e vi dico anche siccome tanto appunto sono gli ultimi dieci minuti fra poco Silvia metterà in chat il link per registrare la vostra presenza nella parte sotto c'è nella parte finale avete la possibilità di fare un commento libero per cui magari nel commento potete dire mi interesserebbe il premio teen mi interesserebbe la gita alle ai festival di libri e poi mi è venuta in mente anche quest'altra idea ok quindi vi chiederei di usare quello spazio commenti perché poi noi lo rileggiamo e a quel punto vi contattiamo eventualmente ecco per per operativizzare il tutto quindi oltre a rispondere a queste nostre un po' così richieste se vi va anche di proporre altro ben venga ma abbiamo nove minuti comunque per le vostre proposte quindi io mi taccio Sara posso dire una cosa sono Alessandra certo Alessandra sì scusate non accendo il video perché ora sono in macchina vi ho seguito da un po' che pezzettino l'ultimo pezzettino dalla macchina allora dicevo no queste allora di sicuro sono bellissime queste proposte che hai fatto ora di partecipare ai festival io ci avevo già pensato di portare il gruppetto dei nostri Contina se ne stava già parlando allora io a Mare di Libri sono già stata due volte e anche due volte da Biagi lì a Firenzola Biagi insomma è un nostro amico è venuto anche a scuola sono due cose diverse nel senso che Mare di Libri è veramente meraviglioso è il top insomma è carina anche lì a Firenzola io noi si partecipa se voi organizzate il pullman noi siamo dei vostri volentierissimo parlo anche per la fina se vuol dire qualcosa partirei anche domani con la valigia mi sembra veramente bellissimo ecco quindi ora rispondo anche lì al link perfetto sì quello si tratta più che altro ecco quello che noi si può fare è un po' un coordinamento organizzativo e capire poi quali sono i costi però ovviamente se siamo di più si abbatte tutta una serie di costi tra l'altro appunto con Matteo Biagi io sono andata quest'anno loro già ti riservano le stanze per i ragazzi e le ragazze a un prezzo veramente irrisorio già insomma diciamo se non irrisorio diciamo agevolato ecco per cui secondo me se gli si dice per tempo si trova si trova insomma una soluzione ecco buonasera a tutti io volevo sono Nicole da Somma Lombardo Valese Lombardia no volevo semplicemente portare una piccola testimonianza nel senso che io ho appena attivato grazie a voi un circolo TeamLab di tre persone nel senso che quando io mi ero informata mi è stato detto ma se l'interesse era inizialmente mio e delle mie due figlie e mi è stato detto ma tranquillamente un circolo può partire anche con tre persone cosa che oggettivamente è stata fatta nel senso pronti e via davvero siete stati meravigliosi perché è vero rispondete subito tutte le mail date immediatamente informazioni perciò è ufficialmente partito il circolo di tre persone l'altra cosa è questa che immediatamente adesso vabbè giovedì andremo a fare la prima beh essendo io le mie figlie in realtà le riunioni inizialmente sono domestiche ovviamente la volontà sarà quella di ampliare però ho voluto fare le cose con calma e comunque nonostante questo non siamo rimasti fermi ma siamo partiti casualmente io parlando con una mia collega anche io sono un'insegnante ma per scelta non ho voluto portarlo all'interno della scuola perché so che altrimenti le tempistiche sarebbero state bibliche e non sarebbero mai partiti però casualmente parlando con una mia collega educatrice lei lavora anche in un centro anziani e infatti abbiamo preso contatti con questo centro anziani ho parlato già col direttore giovedì andremo a fare la prima lettura dovevamo già andare le volte scorse ma per le influenze varie non siamo andati per cui giovedì andremo io e le mie figlie a fare la prima lettura e in realtà il direttore ci ha anche detto che se il circolo si ampia e vogliamo uno spazio dove far trovare i ragazzi in realtà lui sarebbe felicissimo di dare uno spazio del centro anziani questo era semplicemente per dirvi che dal niente entra semplicemente con i contatti in realtà tecnicamente il circolo ha già un luogo dove trovarsi abbiamo già delle prime attività ecco questo era anche un po' per davvero dire che è vero che si può partire dal niente piano piano e poi spero che ovviamente si amplierà però ecco era solo per dare questa testimonianza di facilità di partenza e di entusiasmo ovviamente favorevole a organizzare grazie Michol perché è vero hai ragione uno a volte dice oddio in tre invece no va benissimo è un ottimo numero insomma per partire io nel frattempo ho visto in chat una domanda dunque riferendomi agli aspetti fratici come quando si gestiscono i rapporti con le famiglie non sono sicura Ludovica di aver capito la domanda però cioè se vuoi aprire il microfono apri pure sì praticamente mi stavo domandando che significa gestire i rapporti come e quando gestire i rapporti con le famiglie se si dovesse che ne so organizzare in questo caso un'uscita oppure leggere ad alta voce fuori dalla scuola ecco volevo dire quello non non volevo dire altro allora secondo me qui ti possiamo rispondere tutti perché credo che ognuno di noi abbia una modalità poi da posizioni diverse sì esatto tipo io ad esempio ovviamente conosco le mamme le mamme scusa i genitori di entrambe le mie teen e anche i genitori di altri futuri teen che stanno facendo piccole incursioni per cui diciamo che loro mi conoscono io però di solito ho contatti con i ragazzi e le ragazze perché ai genitori fa piacere che sia così quindi c'è tipo un passaggio per cui dico guarda vorrei fare questa cosa cioè c'è stato un passaggio iniziale per cui mi hanno detto no no se la gestiscono loro la cosa quindi io so che però ovviamente per partecipare stasera hanno dovuto firmare la liberatoria l'hanno firmata i genitori solo che io l'ho stampata l'ho portata a loro e poi gli ho detto guarda fate vedere al babbo alla mamma se hanno delle domande mi chiamano non mi hanno chiamato ovviamente perché per carità però e poi allora loro hanno fatto la scansione e me l'hanno rimandata per cui ecco questo è magari David ti può dare più un'idea di come funziona quando c'è la scuola la tua scuola la tua scuola io ho speso un po' di parole in effetti nella parte conclusiva del mio intervento appunto sulla gestione dei rapporti con le famiglie ci tengo a dire che è un rapporto come dicevo necessario ma anche un po' anche un po' faticoso perché si tratta proprio di a volte materialmente di alzare il telefono e contattare c'è questa azione comunicativa secondo me va fatta in maniera piuttosto precisa e puntuale quindi ci vuole innanzitutto appunto una consapevolezza di quelle che sono le modulistiche che la scuola richiede e questo è il primo contatto secondo me si fa con il dirigente scolastico quindi la prima cosa si chiede al dirigente di cosa c'è bisogno per esempio per l'incontro di oggi essendo in orario extracurricolare e essendo su piattaforma esterna quella della scuola io ho chiesto per scrupola la mia dirigente però la risposta è quella che mi aspettavo cioè laddove c'è la liberatoria di LAV firmata dai genitori non c'è da fare nessun altro passaggio quando invece si tratta di fare incontri per esempio anche in continuità e questo io ci tengo a dirlo la normativa cosa prevede prevede che se i nostri ragazzi faccio un esempio concreto e reale la settimana scorsa siamo andati con sei alunni a fare le letture alla scuola primaria del nostro comprensivo io avevo predisposto un'autorizzazione in cui erano specificate le date le modalità di uscita i tempi l'attività che andavamo a fare addirittura poi anche in caso in cui un genitore accompagni i figli di altri ci vuole la liberatoria ci vuole la scansione del documento cioè c'è tutto un aspetto normativo e questo ovviamente ogni scuola poi si organizza secondo la propria autonomia però c'è tutto un lavoro che va fatto ed è necessario perché poi ovviamente queste attività devono essere fatte nella tutela e nella sicurezza e nell'adempimento normativo quindi è è faticoso sì perché per ogni per ogni uscita che fai fai il tuo plichettino di la tua cartelletta di autorizzazioni la depositi in segreteria chiedi che venga protocollata cioè ci sono tutta una serie di passaggi di legge e in questo senso si gestiscono poi con le famiglie più che più che entri dentro e più che ne fai e poi meno che devi stare a telefonare ogni volta però all'inizio soprattutto secondo me questi passaggi richiedono tempo è un tempo dovuto certo grazie grazie David grazie a te Ludovica per la domanda allora io direi abbiamo siamo nei tempi però se ci sono altre domande insomma ci siamo mi faceva piacere se hanno possibilità perché non so insomma l'ora è tarda le altre tutor delle altre regioni se vogliono fare magari un saluto così per chi non le conosce sapete a chi potete rivolgervi per tutte le questioni insomma legate ad Onda Lunga so che sono collegate quindi se vogliamo fare un saluto finale corale benvenga Sara grazie parto io dal Veneto anche se non sono in Veneto buonasera a tutti grazie è stato un bellissimo incontro sentire i ragazzi i teen leggere condividere è stato veramente importante credo anche come esempio buona pratica per gli altri da condividere noi siamo qua io sono qua per il Veneto credo sia molto bella questa possibilità di fare rete anche mi piacerebbe sarebbe un sogno riuscire a organizzare un'uscita tutti insieme a mare di libri magari con anche dei teen dal Veneto e la componente scuola credo sia fondamentale ringrazio le persone che dal Veneto si sono collegate i docenti comunque sono chiamati in prima persona ad attivarsi e credo sia importante come diceva Davide anche condividere gli strumenti quindi anche la modulistica anche queste ultime cose di cui ha parlato i permessi le liberatorie se riusciamo anche proprio a metterle in rete e a ottimizzare le risorse credo sia una grande opportunità poi sapete che per il progetto Onda Lunga dei lettori volontari ad alta voce che è un progetto appunto di LAV per la regione Veneto potete scrivere a OndaLungaLettori punto Veneto chiocciola gmail punto com io sono Paola appunto Cortiana e grazie veramente perché è stata una bellissima pomeriggio serata grazie Sara grazie a tutti grazie a te Paola ho visto ah ok allora vedi Emanuela ce lo manda per scritto Silvia intanto ha messo le email di tutti Emanuela ci manda il saluto per scritto e forse anche anche Lisa ok perché non riesce a collegarsi in video quindi bene dice dice Lisa chapeau all'ina che hanno 8000 libri allora io di questo volevo volevo dire una parola cioè appunto quando veniamo a fare questi incontri quando si dice rinforzo no? poi si entra in contatto con realtà come questa cioè di persone che hanno la tenacia e anche la competenza di partire da quasi da zero e tirar su una biblioteca di 8000 volumi che va in rete cioè e questo secondo me è appunto quella quella forza di cui abbiamo bisogno di raccontarci perché sono tutte esperienze che si possono replicare che si possono fare quindi a questo servono questi nostri incontri così preziosi anche grazie io se grazie a te Lina anzi se volete ecco grazie a voi e sì è stata una bella una bella sfida all'inizio il primo anno gli sti ora faccio il primo anno e poi vado in provveditorato ora al secondo rinnovo del quando dovevo andare in visita medica abbiamo incrociato le dita sperando che non mi dessero l'idoneità all'insegnamento per rimanere e infatti così è stato abbiamo fatto di tutto per rimanere come docente bibliotecaria perché oramai è una sfida sul territorio e siamo veramente felici perché rispondono veramente bene in particolare i ragazzi della scuola media ma quelli che vengono dalla primaria a vedere la scuola nostra fanno voglio venire perché in realtà è una bella è una bella l'immagine per i ragazzi avere questo spazio per loro è una cosa meravigliosa grazie a tutti a presto grazie a te Lina ora verranno tutti insomma tanto la trovate sulla biblioteca si chiama Paolo Polezzi la trovate anche su Instagram Lina se volete vedere lì ci sono le foto io ho avuto la fortuna di andare di andare di persona quindi però ecco Sara io volevo salutarvi sono sempre Alessandra perché per motivi familiari bisogna che mi scolleghi però volevo ringraziarvi per sì però magari se vi volete trattenere un altro pochino giustamente volevo ringraziare della bellissima del bellissimo pomeriggio della bellissima opportunità che ci avete dato per aver fatto parlare anche i nostri bimbi e quindi grazie poi insomma ci sentiamo per continuare questa splendida collaborazione va bene? grazie grazie Alessandra grazie mille grazie ciao David anche a te ciao 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 noi allora sì rimaniamo se qualcuno ha domanda altrimenti insomma ci salutiamo tranquillamente buona serata è l'ora di cena lo capisco insomma salve posso? sì sì la libreria sì la libreria io mi scuso perché mi ero collegata però poi ho dovuto insomma ho dovuto chiudere interrompere perché appunto sono in libreria però sono sì sono interessata molto interessata a questo progetto l'av insomma tutta la lettura ad alta voce e quindi magari adesso poi riprenderò le informazioni perché questo era proprio sul team love ritroverò queste queste informazioni non so se è registrato questo incontro di oggi sì sì l'incontro è registrato e anche le slide abbiamo tutto a disposizione verrà messo insomma ecco non solo le slide ma anche link poi come abbiamo scritto anche in chat per qualsiasi cosa rispondiamo sia il nazionale sia noi tutor regionali per cui insomma ci siamo ecco e quindi sì d'accordo anzi ci fa piacere perché comunque anche i ragazzi non so se ti eri forse scollegata però hanno detto che gli piacerebbe che queste pratiche venissero portate anche fuori dalla scuola quindi insomma sì 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 assolutamente sì appunto poi l'idea proprio ho sentito il ragazzino quando leggeva proprio quasi all'inizio erano intorno alle sei così no il fatto di appunto di leggere loro di essere un po' da esempio no un po' come il colibri della leggenda che insomma no era un po' d'esempio ai grandi e quindi sì sì insomma ci sono tutti i motivi perché questa cosa va davanti si faccia veramente è una grande cosa un grande progetto grazie 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 a te